ma buonasera a tutti amici video spettatori e in particolar modo specchiandomi sulla superficie di una lastra mi rendo conto che alle spalle ho anche un ragazzone quindi buonasera allievo buonasera eccoci lei è pronto io ogni volta che cominciano queste serate sono di un carico porca miseria infantile allora allora cominciamo vai 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 a fare il setappino ti preparo lo schermino bravo bravo allora per prima cosa prima ancora di dire qualunque altro dettaglio saluto ringraziamento ai ragazzi preparazione per la serata devo fare un racconto che neanche tu hai sentito in alcun luogo in anche privato è tuo è tuo sia non ho fatto una storia su instagram per quanto concerne l'albero del miele ok ma sono andato all'albero del miele ok e ho avuto un'esperienza allora l'esperienza trovato è stata questa io sono arrivato all'albero ho toccato effettivamente fortunatamente è partito immediatamente un combattimento quel combattimento era un iphone di livello bassissimo di livello 8 ho cominciato visto che avevo solo pokemon potentissimi e falso finale non era stato imparato da nessuno ho cominciato a lanciare pokeball di cui avevo una decina d'accordo gliene ho lanciate dieci è scappato da tutte e dieci e l'ho ucciso spegnendo la switch e questa è la mia esperienza professore con l'albero del miele ragazzone un iphone di livello 8 che è scappato dieci volte mi ha fatto rage quittare sono state un po deludenti queste ultime azioni in pokemon prima la perdita di otaku e adesso anche iphone certo che mi ricordo di otaku e infatti io poi giustamente ti ho lasciato raccontare volevo dire che sto cominciando a rivedere un po di freebooter che montano la nostra run di pokemon e a parte che sono contentissimo perché mi rendo conto di come stare dall'altra parte ed è una figata perché stiamo creando sostanzialmente un revival del senso d'avventura che si viveva da piccini in pokemon ma da adulti con quindi delle dei tweak sia a livello di gameplay con la nazlock che a livello di discussione di lore ma assolutamente lì si è creata questa serie che non è nulla di quanto io abbia mai fatto su pokemon è qualcosa di nuovo anche per i ragazzi che mi seguono non vedo l'ora di poterlo esatto pizzone educativo parlo di lui esatto esatto ma quanto pare anche goober adesso sta per fare la sua versione di pokemon quindi quindi abbiamo incredibili talenti alle spalle io infatti ho visto pizzone però come tutti eri vietato goober bravo mi vieto l'educativo ragazzo il pizzone educativo anche pubblicato un video che come ti ho detto in privato si chiama sabaku non aprire quel video non aprirlo non aprire quel video ok e quindi è stato facciamo posto in cantina c'è anche pizzone educativo adesso accanto a goober e insomma mi raccomando non aprire non ti rovinare niente prima del tempo perché altrimenti insomma il climax non è lo stesso io intanto metto il tuo schermino è io sono in questo stato cioè per dirti no per far capire la situazione in cui mi trovo perché super divertente per me in quanto lo sai lo sanno lo sapete tutti ormai che io comunque indipendentemente dalla carica emotiva del condividere dello stare con francesco con saidoni insomma di vivere queste esperienze creare comunque qualcosa che sarebbe stato a priori un buon contenuto un bel modo di vivere un'avventura nuova non mi aspettavo di fomentarmi così tanto di entrare così preso di coinvolgermi a tal punto e che la naslock fosse così dannatamente divertente anche senza perché a me una cosa che preoccupava era so che questa è la classica challenge so che cosa vuol dire perché in tanti videogiochi anche molto prima di internet si facevano nel nostro privato tra amici anche in solitudine so una challenge videoludica quanto può essere interessante divertente tecnica appassionante però nasce spesso dal cosa dall'essere una cosa che fai su titoli e franchise che conosci molto bene quindi la naslock hardcore anche se magari semplificata in alcune regole datami in mano dinanzi a un franchise che ho seguito fino a un certo punto che non conosco nella tecnica molto bene pensavo che sarebbe stata molto più a scaglioni di scalini giganteschi in cui sarei scivolato continuamente invece è fighissimo è fighissimo e mi sta piacendo un botto tutto però la cosa buffa è che noi parlavamo per esempio riguardo il racconto delle lastre del desiderio di queste creature del fatto che è 3 più 2 cioè ci sono tre creature che hanno desiderato l'unione di spazio e tempo e così via creando quindi un effettivo effetto una reale conseguenza sul mondo che conosciamo perlomeno lato leggenda lato racconto mitologico se queste tre creature come do per scontato indipendentemente da tutto perché la storia è di pokemon e la diciamo eterogenità degli eventi delle cose presenti in questi videogiochi è quella che è presumendo che queste tre creature siano quindi pokemon io sicuro ma sicuro li ho visti c'è li ho visti li avrò messi nel box perché ho un living dex solo che avevo giocato fino alla terza generazione e poi ho preso x y lì ho fatto il living dex ma senza conoscere tutti i pokemon nuovi vedevo quelli che mi mancavano ma anche i leggendari no vedevo che mi mancavano li scambiavo e li mettevo nel numero giusto ma non mi sono rimasti in prezzi quindi sono completamente allo sbaraglio di scoprire ed è bellissimo questa cosa quindi sono qui sono qui ready sarà molto propedeutico al solito per leggende pokemon arceus fare questo lavoro insieme e la domanda che ti poni giusta saranno pokemon il le lastre lasciano intuire che lo siano e sì per quanto per quanto la creatura originale di fatto non lo è quindi potrebbe darti potrebbe darti questo il dubbio no di trovarli o meno però sai sono un trio solitamente comunque l'hai accarezzato sì no sui koon raiko bravissimo bravissimo esatto però tu non sai appunto chi siano graficamente nel caso in cui siano pokemon e soprattutto e soprattutto ti direi sai ancora poco che siano meno pokemon su di loro cioè sai che hanno un desiderio intrecciato spazio e tempo ma poi e poi cosa rappresenta tra l'altro faccio venire il piporitto a chiunque in realtà sia in ascolto con una con un'anticipazione che in realtà ho già dato a te in privato e che potrebbe essere anche fumo niente arrosto però io la dico perché la voglio comunicare con lo stesso entusiasmo con la quale con il quale perdonatemi io ho assimilato questa informazione ovvero licca affidabili dicono che grazie grazie pizzone di nuovo si è appena palesato in chat grazie dicevo da licca affidabili parrebbe che tutte le fight con pokemon leggendari quali essi siano non è ben noto in leggende pokemon arceus siano delle boss fight ora tu non sai neanche bene cosa significhi una boss fight dentro leggende pokemon arceus perché non hai seguito i trailer e non sarò io a darti delle anticipazioni li ho solo visti quindi so che il pokemon aggredisce l'allenatore che c'è il roll che c'è un combat system che non ho approfondito non saprei e questo infatti evidenzia che hai ragione quale dovrebbe essere la differenza tra una boss fight e un incontro normale forse che i pokemon selvatici non hanno interesse nell'allenatore però eh vedrai vedrai non ti dico nulla non ti dico nulla se non il fatto che eh capisci bene veniamo da ormai otto anni di leggendari consegnati spesso tramite evento tramite il postino che arrivava al centro pokemon e ti regalava i pokemon in maniera non dissimile a come hai vissuto la consegna di girash e mew in questo gioco davvero quindi pensi eh sì a volte sì cioè tranne quelli legati alla storia ah ok quanti leggendari evento per forza sì sì vengono consegnati non solo bravo bravo e non solo purtroppo anche i dungeon che tu vedi qua in diamante lucente perla splendente sono stati molti molto ridotti in generale nel gameplay dei nuovi giochi e magari tu hai ricordo di della cattura di pokemon attraverso dei dungeon ma quello fa parte del passato cioè nel presente di pokemon è tanto tempo che la cattura del leggendario è semplicemente al massimo ti presenti in un antrone entri in questa grotta di un metro per un metro dentro c'è un leggendario ci interagisci e lotti pensare che siano stati costruiti ah è vero sì sì c'erano le mini grotte con il leggendario alla fine bravo è vero e quindi pensare che pensare che si ritorni eh finalmente forse ovviamente perché questa è una informazione da prendere con le pinze bravo e con una boss fight che corona l'esperienza del leggendario della cattura del leggendario potrebbe essere potrebbe essere tanta roba quindi sono contento di vivere insieme a te questo momento in diretta quando sarà il 28 gennaio insomma sarà bello prenderci quel mese full pokemon prima poi di elden ring e di scambiarci nuovamente questo testo ci ho detto sì ti do un piccolo avviso il solito tacquino del professore per chi se lo ricorda in rosso fuoco e verde foglia faccio un po il vecchiardo venivano riassunte dal videogioco stesso le azioni fatte dal giocatore prima di spegnere il gioco quindi una sorta di diario dell'avventura sab ha fatto questo ha fatto quest'altro e poi ha salvato il gioco ha spento così da farti praticamente un nelle puntate precedenti io invece propongo in questa veteran run da un po di puntate lo sto facendo una inversione di quel di quel tacquino di quelle note ovvero un avviso per il ragazzone di quel che arriverà in una forma ovviamente molto velata delizioso ragazzone un'altra palestra ci aspetta probabilmente questo ok mi raccomando mi raccomando massima attenzione in più ho scelto un ragazzo nella community e questo ragazzo ti sfiderà pvp ok quindi ci sarà anche la tua prima lotta di allenamento non preoccuparti sarà una lotta bilanciata ma serve per cominciare ad allenarti in vista delle sfide che ci attendono che diverranno sempre più difficili sarà una lotta nella quale ti sarà concessa la morte dei pokemon perché non moriranno nel pvp abbiamo esatto abbiamo questa nuova regola che mi hai spiegato poi aveva avuto dei problemi online eh sì sì e potrebbe esserci anche qualcos'altro di loro ma tu fai girare gli ingranaggi del cervello semplicemente questo d'accordo e adesso ti passo il fermo mai ti passo il timone prego allora ti ricordo che abbiamo preso volo abbiamo esatto il team galassia che si è portato nella tomba otaku quindi hai uno spazio libero anche se insomma non non so come vorrai occuparlo l'hai adesso dato se non sbaglio a hunter anzi gengar perché te l'ho evoluto sì 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 e vedrai poi se mantenerlo o meno ti do un altro avvisino piccolo ricordati che gengar proprio come otaku è un pokemon molto fragile stai attento ho avuto questa esperienza infatti una delle cose più importanti che dovrei imparare a fare e 6p è capire quali pokemon hanno attacchi normali e quali speciali perché in base alla difesa dei miei pokemon glass cannon devo sapere quando far scappare uno e quando far scappare l'altro per esempio il insomma cadabra aveva molta difesa speciale ma pochissima difesa quindi sanguisuga che è un attacco fisico te l'ha obliterato esatto controlla ogni tanto magari dai un'occhiata alle statistiche non è un problema se ti fermi di tanto in tanto no ma anzi secondo me è anche un bel setup di apprendimento bravo bravo anche perché una volta che te lo ricordi così il singolo pokemon te lo ricorderai per sempre per esperienza cioè quando tu hai associato a un fragment a un segmento di gameplay la statistica di un determinato pokemon poi te lo ricorderai per sempre quindi piano piano apprendimento anche per il futuro visto che in leggende pokemon archaeos probabilmente qualcosina cambierà anche a livello di statistiche ma non le proporzioni fra le statistiche quindi in teoria un glass cannon qui sarà un glass cannon anche in leggende pokemon archaeos questo sicuramente immagino sia assolutamente confermabile perché non cambiano così radicalmente da un capitolo all'altro più che altro specialmente se muoiono ti rimangono impressi quindi ecco se non trovo così mai più allora però noi avevamo esplorato la città mi sembra tutto tutto esatto esplorato ogni cosa qui abbiamo i meteoriti purtroppo servono per deoxys te lo anticipo ma non lo abbiamo e quindi perfetto perfetto abbiamo abbiamo volo e posso utilizzarlo anche senza che l'abbia preso un pokemon allora sì assolutamente basta che tu apri la mappa a ges è diventato auto ma ops è diventa bravissimo apri la mappa scegli un punto di destinazione se vuoi usarlo e usa pure volo non so se vuoi tornare a comprare qualche erbetta pazza sgravata allora io per ora mi trovo in una situazione di enorme povertà perché abbiamo investito tutto in oggetti e mosse soprattutto le mt2 delle quali erano andate a otaku e quindi però è esatto però nei rimedi per quanto riguarda le erbette in realtà ne ho uno sbrego ancora quindi ok non ho bisogno di far altro che cercare di pensare a possibile utile e vestiti ragazzi è vero sì ho speso certo certo quello è importantissimo esatto 50 mila poche dollari investiti il fashion mon eh sì esatto quello che che effettivamente dovrei pensare bene di recuperare forse un po di backtracking ma volo non mi permetterà di sorpassare il sai da che col mal di testa quindi penso che a questo punto si vada direttamente avanti di trama cioè il volo sarà utile per tornare al centro commerciale per fare backtracking quando la trama ti dice guarda torna al team galassia la cioè qualcosa del genere ricorda c'è una città dove dovremo tornare a un certo punto pensaci lo sai già allora ci abbiamo sia il museo dei fossili ok potrebbe essere qualcosa in cui di solito si torna una volta trovati e oppure vuoi aprire la mappa apriamo la mappa andiamo apri la mappa controlla c'è una città noi abbiamo cuoripoli era gigantesca cosa c'era cuoripoli il parco abbiamo fatto le gare di ballezza bravo il parco e ha giusto ma aspetta fammi vedere noi noi non era 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 rimasta saltata la palestra ecco ok mi ti aveva detto che sei uno scarso di merda esatto esatto è vero la palestra era rimasta chiusa ma io non c'è ok 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 nice bravo ed è ancora più presto ci torneremo è ancora presto sì ma quindi in realtà è l'ottava a questo non te lo dico ok no perché sai mi vengono in mente gli asset narrativi ok va bene te lo dico va bene va bene ok 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 devoria tua amica mia andiamo vado vuoi attraversare il percorso 214 dici sul serio non è in buone condizioni poi non c'è niente da vedere beh ci sarebbe uno scopri rovine potresti fargli una visita quel tizio si è scavato da solo il percorso attraverso minchia rispetto insomma se si si è massimo rispetto per scavato il percorso da solo ok ma go do it myself proprio ok allora si comincia subito allenatori cariche non sono mediamente felice del party ma non entusiasta voglio pochino diversi in un paio di case vediamo vado ma no ah sì ok ok ha avuto un tempo di reazione lentissimo attenzione dietro di te che cos'è si va bene vediamo che te la cantite la scrivita sola nel senso ha fatto una battuta fighissime queste attate aspetta cominciano ad arrivare nuovi tipi psico e spettro come allenatore tu mi hai raccontato quello non l'ho dimenticato mi è rimasto impresso perché è una di quelle cose che devo proprio mettere nel taschino della memoria che ho un party particolarmente debole a ghiaccio bravissimo bravissimo sì per ora sì ma ti dirò che probabilmente io sono sempre stato con un party debole a ghiaccio da quando sono bimbo perché il ghiaccio ancora più del drago è il tipo inesistente cioè quello che non vedi mai che arriva all'ultimo il lapras che ti fa geloraggio insomma sì sì poi le palestre ghiaccio non sono neanche così frequentissime e ciò nonostante però è fighissimo mi piace un sacco il tipo di ghiaccio allora il giove il secondo è un treno assolutamente un treno è un pokemon veramente forte il pokemon speciale misdraves vabbè qui abbiamo allora devo stare attento a non abusare del super potere di joel devo assolutamente allenare equamente il party sì ok c'è il condividi ex però se c'è una cosa che mi è piaciuto fare fin dall'inizio di questa challenge tra virgolette oltre alla priorità di esplorazione avventura è stato cambiare i pokemon continuamente allora è bravo ok altre bacche uno specchio d'acqua o ancora l'amo buono si potresti anche pescare nel caso in cui tu abbia voglia di prendere pokemon acqua ma dovresti essere già a posto no e semmai pokemon acqua come pokemon acqua sto appostissimo perché se qualcosa va male a scenia o comunque infatti c'è gastrodon esatto no dico sì se gastrodon purtroppo fallo tacu o comunque geridos mi auguro di no 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 però poi ho pensato una cosa allora te la vado a chiedere cioè ci ho pensato una serata no in questa settimana perché sì no no io io sono io sono un min maxer le cose non ottimizzate mi distrugno vanno bene quindi ho pensato al all'errore di rimuovere come era non era riposo era recupero a ripresa 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 da gastrodon e il mio ragionamento era non vale la pena avere ripresa su questo pokemon perché tendenzialmente consuma un turno per fargli metà hp ora la mia domanda è questa il discorso giusto sbagliato perché ci ho riflettuto ma non ho chiesto nessuno perché ho aspettato il discorso giusto sbagliato non è che deriva soltanto dal competitivo perché se io consumo un turno per fare metà hp o per usare una super erba che mi cura 150 hp che magari più di metà non è comunque la stessa identica cosa una mossa in meno chiaramente chiaramente nel pwe è meno forte questa cosa perché hai le erbette puoi curarti ok ok però credimi ci sono delle lotte che ti svuotano l'inventario quindi ripresa è comunque cioè importante perché insomma ok ok bastarde alcune lotte sono bastarde era era per capire proprio la meccanica dietro infatti adesso è più chiaro poi immagino che comunque la naslock abbia 50 ramificazioni tra cui anche leggevo a volte nei commenti ah ma quindi nella naslock non si usano gli oggetti cioè quindi immagino che ci siano diverse categorie tra cui no item ci sono no item no cure al centro pokemon si item no strumenti x diciamo che no cure al centro pokemon io ho fatto pokemon x con le cure limitatissime però e tra l'altro me ne sono pentito perché è stata difficilissima e anche perché l'ho giocata di merda a un certo punto comunque ognuno si fa le sue regole per la per la naslock diciamo che qui io le regole le ho studiate a fondo basandomi su quanto sia difficile il gioco e credimi questo te l'ho sempre detto a un certo punto prenderemo una bella spike su perlano e quando arriverà quella spike capirai che magari ti ho fatto usare gli strumenti x per un motivo perché se te ne avessi banditi in questo momento tu non avresti compreso come funzionano e no certo tutorial tra mille virgolette non sarebbe stato assimilato e nel momento del bisogno tu non avresti saputo di che fartene di quelle robe lì fondamentalmente quello si potrà cambiare quando mi potrò definire effettivamente un player pokemon perché con tot capitoli magari tipo decima generazione già si può pensare di aumentare la difficoltà basquale che dice basquale ponita io ho appena cambiato pokemon per la moleto del denaro con phalanx ma non credo sia un problema perché comunque pv e poverino poi terra anche il mio quindi non diventa uno per e su cosa no e terra non resiste a fuoco a no intanto chiara è tornata dalla sessione perdonatemi di tatuaggio c'erano molti che chiedevano di vedere il bestione quindi non so se vuoi mostrare 5 ore 5 ore mamma mia e beh me lo immagino chiara si è tatuata tipo tutto il braccio completamente bellissimo ora ora mi fa vedere delle maglie addosso perché fa un po freddo eccoci qua vede niente e poi va tutto colorato o no 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 è principalmente in bianco e nero ok non si vede niente perché tutto un cielo fanato è certo per forza domani ciao ciao buona serata that said my friend quindi terra non resiste a fuoco terra non resiste a fuoco è una misconception che avevo anch'io dalla logica semplicemente sì perché super efficace vero vero oltre che dalla logica anche dal fatto che terra è super efficace su fuoco è ok ci sta però no piloswine per esempio prende per due da fuoco piloswine prende due a ok paro piloswine qual è fatto fatto piloswine è il piloswine ok ok piloswine non esiste però c'è un suino di fuoco che è emboar ok ok emboar è possibile che un fuoco prenda ok piloswine me lo ricordo ed è bellissimo che poi diventa mamoswine si è bellissimo è bellissimo lo adoro allora ok non ho fatto una mossa intelligente ma tu hai già fatto la cattura qui no 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 non perdiamo turni contro questa perché secondo me diventa cosa sta facendo l'inizio meme praticamente stavo chiacchierando d'altro ho buttato dentro un pokemon che non è efficace contro warmadam ho fatto foglie lama io ho tolto un settimo di vita lui si è baffato e ho detto se non lo uccido subito questo si dice si è baffato tutte le caratteristiche praticamente oh mamma mia conviene che io lo sciotti subito direi che quello sbigo attacco non ti ha impensierito più di tanto no 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 solo che sai un banani sputafiamme cattivissimo dicevi no sai adesso le mie sconfitte fino ad ora proprio per magari in esperienza sono sempre arrivate a sorpresa quindi presto immediatamente il culino stretto quando vedo bravo cosa va come non dovrebbe non sbagliate anche a questo non lo scombattuto se sei l'hai combattuto anche che non sei andato a sinistra in realtà che ti manca la parte in alto a sinistra se la vuoi fare adesso se non faccio faccio zig zag si si come preferisci tu io sto copiando le tue mosse perché il professore è sempre con te giusto giusto adesso sai cosa vuol dire avevo percepito la presenza di un allenatore ma santo cielo sei circondato da allenatori bro sensitivo guidone questo out era sicuramente una natura migliore del mio gang terribile allora tuttavia maledetta amicizia se anche il mio banani appena mangiato un erba che sa di merda ragazzone a levitazione devo fidarmi dell'estetica dei pokemon se vola lo sprite vola anche lui esatto gengarlo perde levitazione allora ah beh ok a senso a senso a senso a senso a senso perfetto ma hunter perfetto perfetto allora ho paura di buttarci dentro perché spettro è super efficace super efficace con spettro giusto sì esatto come drago si picchia una vicenda esatto esatto momento tutorial caro il mio amico maledizione l'hai sempre usata su un pokemon non spettro ma sugli spettri cambia effetto hai un dot che ti toglie un quarto di vita a turno adesso su ifrid e basta va via solo switchandolo anche quando muore hunter anche quando muore hunter e se tolgo ifrid va via va via anche se poi tornasse cioè ti esatto ok 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 porca miseria che figata bella mossa in doppio soprattutto immagino che abbia un suo valore perché deve necessariamente che far cambiare la strategia dell'avversario ci sono stati dei momenti in cui curse è girata si in in doppio come mi chiù però è un quarto quindi se io riuscissi a calpirlo con un lo shoterei adesso lui se lui non ha mosse per colpirti devo 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 essere più veloce di lui sono di cinque livelli veloce no ok 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 perfetto nice e beh a un duo tanto cielo dovrebbe essere una scheggina sì a un duo è un gran pokemon non con la mia natura allora va bene un gran pokemon lo stesso evviva allora borsina erbina schifosa anch'io ho appena dato prima banani appunto un'erba che sapeva di merda se si impara a conoscere meglio i pochi non si può diventare più forti è tutto lì è tutto lì tutto lì è vero ancora niente cattura perdono io infatti non sto facendo zig zag per le emozioni di scoprire cosa succederà con le range fai bene fai bene per far crescere la mia collezione cerco di sfidare l'allenato di più forti di me è così che fanno i cerca pokemon beh però è cercare e catturare è diverso amico sono d'accordo al duino al duino ma che nomi meravigliosi bellissimi allora è vero che hai l'ammuleto delle dei pochi dollari però giustamente siamo in un percorso in cui mi sembra che tutti abbiano il pokemon erba quindi vai fritta ti prego livello un po mi fa morire sto blissy che spara fiamme dalla bocca ho finalmente una stab su a un boom è sì tanta roba lancia fiamme è proprio la mossa competitiva che si usa su a un doom purtroppo però a un doom non ha mai avuto granché spazio competitivo è peccato perché un pokemon bellissimo da vedere molto bello il mio preferito ma non purtroppo non ha mai avuto grande lustro perché è glass canon ma non abbastanza canon che è molto glass chiarissimo a gianni al duino madò a gianni che fine ha fatto a gianni a gianni mi manchi esatto compra elton ring ombra notturna fa apparire un orribile miraggio al bersaglio infelice un danno pari al livello di chi la usa allora non è male ombra notturna perché ti permette di fare in questo caso 30 ps sì comunque ha di chi la usa però il fatto è che è utile in situazioni estremamente limitate nel senso tu devi avere un pokemon con difese folle per oppure invulnerabili bravo i tipi bravo ora in realtà la cosa che ti conviene di più è stare come stai secondo me perché shagura ex scomba con altre mosse che imparerai rivincita conta che è una mossa fisica quindi non è granché però è una coverage cioè ti permette di avere anche la mossa buio su gengar quindi la scelta è tua diciamo che tra rivincita e ombra notturna secondo me stanno bene tutte e due per motivi diversi no ombra notturna è una di quelle cose che a me intriga tantissimo un po come era cometa l'attacco che non può fallire bravissimo non solo ma sì e io mi ricordo da argento c'era cometa all'epoca mi piacciono queste cose eccentriche però hai veramente bisogno di una situazione nella quale hai uno strano setup cioè non vuoi switchare ma metti 50 danni ti bastano è un po strano lancia fiamme good old friend perfetto io mi metto a cercare e niente ragazzi qui più che altro ci sono rimasto male al di là del destino che ha subito il mio try da ipom che comunque l'albero avrà in un percorso di pokemon di livello 25 circa purtroppo non dipende dal percorso è cavolo 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 salvo che ci siano tipi di miele diverso un po tipo super miele buonissimi miele no purtroppo no wow io non ho idea di che pokemon ci siano in questo percorso nemmeno io non ne ho io ho fatto 50 passi nell'erba alta non era più pallida lawson oh shieldon bellissimo sto pokemon acciaio terra oh che nostalgia sudovudo che nostalgia perché nostalgia eh perché sudovudo è stato uno dei primi pokemon emblema delle live fatte su pokemon quando ancora le facevo su youtube oh che bello questo mena come un fabbro tra l'altro e quindi faccio poco il cazzetto perché se no spacca sudovudo è erba roccia solo roccia purtroppo nonostante intuitivamente si potrebbe pensare che fosse anche erba ok 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 io ragazzi uso la master ball se me lo concedete vi faccio vedere un attimo come funziona perché sembra verde ma in realtà vi assicuro che una master ball al 100 punto vabbè di tutti niente non non esistono ai pokemon selvatici no puntati tu rest in tutto Ah, vedo che non vuole proprio... No Io mi curo anche perché ho paura di cose strane Sì, ti capisco Se lo dici tu figuriamoci come... Di robe esotiche, pazze Abisso Ora, abisso spero di no Tra l'altro ti do un insight Abisso è come boato Non funziona sui Pokémon di livello più alto Ah, ok L'ho imparato a mie spese Nuzlocke di Pokémon X ho perso un Lapras Che era di un livello inferiore all'avversario Per via di ghigliottina Accidenti Ha reso tutta la Lega un inferno Perché Lapras era il Pokémon su cui contavo Per battere tipo 3 di 4 Super 4 all'epoca E poi qual è l'ultimo? Per Forcorno? Sono 3? Per Forcorno, ghigliottina, abisso e puro gelo Ah, puro gelo? Non mi ricordavo Puro gelo Poverino Ma quelli sono i miei Pokémon preferiti Io vorrei trovarne uno nuovo qua di preferito Tanto scelgo Oh, eccolo! Finalmente un incontro casuale Oh, niente Cricatune Per ora abbiamo una finestra di Pokémon Abbastanza ristretta Allora, Coleottero Continua ad essere uno dei tipi per me più Eteri Debole a fuoco Volante Debole a fuoco e volante E fin qua ci si Ah, quindi Roccia anche Anche roccia Come erba Ok, quindi è debole a fuoco Volante E roccia Roccia Super efficace su psico Perché? Perché Gli insetti fanno paura Quindi disturbano Il potere della mente Ok? Ah, carino Ok, devo collegare queste due cose Perfetto E buio Ah, tipo le lucciole Perché vedono il buio gli insetti Quindi sono più forti di chi incarna il buio Ma perché vedono il buio Allora, ok Perfetto Ok Carino, carino E erba Perché ovviamente infestano Ah, quindi Certo Erba Buio Psico Ammazza che coverage interessante Ma guarda, Coleottero è un bel tipo Sono fighi Mentre Folletto è debole a buio Forte contro Drago E debole contro Acciaio Sì Ok L'hai preso? Ah, miracolo E oltre a Drago è forte contro cosa? Folletto Psico? Folletto è anche debole a veleno È forte contro Lotta Drago Che dicevi tu Ah, Lotta a Drago E buio E buio Ok No, debole contro Lotta Debole contro Veleno Debole contro Buio Forte contro Lotta Forte contro Drago Forte contro Buio Debole contro Acciaio Perché l'acciaio Nelle In molti miti Sulle fate Soprattutto irlandesi L'acciaio è La spada Con la quale si sigillano I folletti E il veleno Perché i folletti Sono esseri naturali Legati alla natura Quindi il veleno La distrugge La natura Ok Cerco di darti Delle storie Per memorizzare Perché è l'unico modo Esatto Esatto No, no Ma funziona Sì, tutti i metalli In realtà Vero Marco Spedro no Ragazzi No Coleottero È resistito Da Folletto E ragazzi Ci ho messo Un quarto d'ora A Finire questa cattura Ma arrivo Ancora Geodude Ma neanche un Graveler Eh sì Graveler Tra l'altro Simpatico Come Pokémon Da trovarsi contro Perché? È rocce Basta, no? Vedrai Questa Ah Aspetta Lo so Lo so Ok Autodistruzione Vero? Bravissimo Perché io Io c'ero Bravo Io c'ero Quando le autodistruzioni Ecco Ora Ora Pensa in Nuzloc Autodistruzione No Che ridere No 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 Allora Conta che adesso Tu ne vivi una versione Edulcorata Ma all'epoca Autodistruzione Esplosione Dimezzavano anche La difesa Perché sì Mamma mia Mamma mia Che male Ho una domanda Dimmi tutto Picchiaduro Con sei Pokémon Quanti attacchi fa? Sei O meglio Cinque Ah Mi stavo dicendo Esistono attacche Che fanno sei colpi Ok Cinque Quindi posso togliere Morso Cioè quant'è la potenza Togliere Morso Qual è il power di ogni singolo Morso? Sarà venti Ah no mi correggono Mi correggono Ne fa proprio sei Cioè la tua più altre cinque Se è questo che stiamo dicendo tutti insieme Stiamo dicendo la stessa cosa Se no sono sette Ma non credo Cioè la tua più altre cinque E allora tolgo Morso Via Dai Beh sicuramente Morso fa meno Eh La precisione rimane 100 Però ricordati che Morso fa tentennare Eh ma Ah Eh Anche Rogodenti Anche Però c'ha 95 di precisione mi pare Rogodenti O mi ricordo male Ah quindi Comincio a capire Cioè su Pokémon Il 5% fa paura Ok 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 Non è su Pokémon Ma in una Nazlock Immagina avere Aundum fragilino Davanti a un Pokémon Che deve uccidere Fa Rogodenti e Missa Ora Lascia perdere che in realtà La tua mossa è lanciafiamme Quindi in realtà stiamo parlando Del sesso degli angeli Perché Rogodenti è una mossa del merda Su Aundum Ok 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 Però Eh perché secondo me Perché comunque è fisico Sì 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 Eh bravo capito Chiaro chiaro Nice Posso trovare un Pokémon Dai Dai Cosa c'è Dai Un altro Niente Niente No ma tu Tu ce l'hai Tu ce l'hai un bel Pokémon Da trovare in questo percorso Quindi Io adesso finché Oh Devo catturare Da pescare non c'è niente Gli alberi Mai più Salvo che trovi il modo Di renderli di alto livello Oh no no Scappo da Pokémon così Il vigore è proprio noioso Eh sì è Perché animazione brutta Qual era? Non ho visto Abbattimento Ha alzato il Pokémon E ha schiacciato il modello Fino al 2D Ah sì 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 È proprio brutto da vedere Che tristezza Sì Un piccolo step forward ragazzi Un piccolo Piccolo step forward Vi ricordate? Ti ricordi le animazioni di Colosseum? Eh beh certo che me le ricordo Genius Sonority Amico mio Sviluppatore Eccolo lì Sì l'hai trovato Sì Stanchi Grand Tank Amico mio Grand Tank Lo hai trovato contro Nella sua versione evoluta Esatto Allora È il momento Della Master Ball Bravissimo Tu sei che sei il mio allievo Noi giochiamo Noi giochiamo di notte Quindi Sì 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 È di livello alto Prova Eh ma tu è una Master Ball Ricordatelo Sì Il potere Della Master Ball Reschinata Perfetto Perfetto Bellissimo Ok Guarda che bello Che è Si protegge Spruzzando un fluido Puzzolente Dal posteriore Il tanfo Permane Per 24 ore Scoreggia È un Attore di Natale In India Praticamente Allora Vuoi dare un soprannome? Sì Io ho un nome già per lui Unirò Uno ormai Dei meme Della serie Principalmente legata A Uno dei personaggi Più cruciali Dell'avventura Fino d'ora Nella partita A Il mio gatto E lo chiamerò Violugo Bello Violugo Mi piace Viol Beh Ti direi che Potresti Fare una scelta Qui Gengar Eh Sì Stavo pensando Anch'io Gengar Sai Esatto Perché Aspetta Controlliamo La sua natura Bravo Bravo Mi piace Controlliamo Allora Che fortuna Vediamo un po' Allora Bursa Nope Devo andare a Pokemon Error Vediamo Vediamo Poi Skunk Allora Info Schiva No Tank Con la difesa In meno Eh Allora Fammi vedere Se è attacker O attacco speciale Perché non ne ho idea Come se giochi Aspetta Mi faccio una ricerca Rapida Vediamo un po' Spero che sia attacker Perché almeno Una cosa buona Può averla È attacker È attacker Te lo confermo Ok Quindi dai 10% Allora Non è il massimo Ma non è neanche una merda Ok È ok 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 È accettabile Dai Ha bisogno di livellare Questo sicuro Quindi Gasquine Tu sei bellissimo Con il nome Ma non sei più un hunter Quindi Violugo Entra nel party Ok L'altro è un gran Pokemon Proprio In generale Ha un bel typing Vedrai Vedrai Eh buio veleno Sembra figo Bravissimo Quindi non prende La debolezza psico Del veleno Perché L'annulla Buio Buio immune Fichissimo Allora Strumento Sposta Ugo Ma qui c'è una caverna Qui c'è una grotta Vai vai Fammi un po' vedere Che c'è dentro È chiaramente un clown Vero Ah no Tutti Errore di sti clown No Non è un clown Ok Tutti mi chiamano Scopri rovine Ma a me non importa Scopri rovine E non mica è un insulto È una cosa Cioè Va bene Io continuo a scavare la roccia Un pezzo per volta E sai cosa? Sono uno scopri rovine E allora scusa Ti offende essere chiamato così E ti rifinisce tale Affascinato Dagli unknown Lo so che non è richiesta Un po' improvvisa Ma Che ne dici Di fare una gara con me? Tu vai a catturare Qualche uno Di questi Io invece Continuo a scavare È un modo per Mandarmi a cagare Faremo una gara per vedere Che più Ah che è più veloce Te lo dissi Già l'altra volta Perché te lo aveva Bravissimo Anticipato un NPC Questa è la quest Più unknown catturi Più lui scava Quindi magari Tra una live e l'altra Puoi fare qualche storia Puoi insomma Metterti lì A catturare gli unknown Lo facciamo qui Semplicemente perché Altrimenti sarebbe una live Di farming Esatto Ed è un po' come Quando tu mi dai le bracci Sì Solo che io non ti posso dare Gli unknown Quindi Chiaro Chiaro Perfetto Figo figo Sarà fatto Fossa Chi la usa scava Il primo turno Mamma mia Quanto mi manca Bellissimo Allora Fossa è fortissimo Però 80 base power Però è come volo Esatto Se Il personaggio Se l'antagonista Riesce a Fregarti con un iperraggio Non solo Terremoto Ti fa male Mentre sei sotto Un po' come Un po' come tuono Al volo Giusto che Ok Esisteva anche una mossa d'acqua Che lo faceva vero scomparire Credo No cascata non lo fa Surf nemmeno Forse no Mi ricordo Non ho capito Perdonami Se c'era una mossa acqua Che faceva lo stesso Sub Sub Ok 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 Grazie ragazzi Allora Gran radice La cosa è Si vende? No no Osservala un po' Assolutamente si Struito Struito radare Un pokemon Potenzia le mosse Ruba PS Facendo recuperare Un numero maggiore Ah che figata Figo Parassi Sieme a potenziato Let's go Bravo Ho sbagliato Non devo andare nell'erba Oh carino Girafari Avresti potuto trovare Anche Girafari Non so se vuoi catturarlo È per il Pokédex Esatto Puoi Let's go Pokédex sia Ragazzi io sto mangiando Un po' di pizzetta Pizzettina Rinvigorente Però lei è psico Quindi Ah però sono Psico normale Perché ho buio Non può farmi mossa psico Esatto Può farmi pestone Bene Cambierò Pokémon Che trono Ti ho dato È arrivato il momento Di mettere Ifrid Mi sembra intelligente Il mio tank Ha subito Mezzo HP Potrebbe essere Un colpo critico Quindi No Vediamo quanto ti fa Pestone qua Abbastanza Mamma mia Fa malissimo Sto Girafari Per favore Fatti catturare Fa veramente male Attento al crit Eh sì Non può uccidermi col crit Adesso Ma tanto tu hai tirato Una Masterball Non ti preoccupare È fatta È diva Benvenuto Benvenuto Nel mondo Delle Masterball Meraviglioso Del cionpone Il cionpone Il categnaccio Eh sì Esatto Precisamente Ok Andiamo Bene Ecco ti qua Città È un altro percorso Riva del lago valore Ok C'è un altro lago in questa regione Vediamo un po' se Fammi vedere Eccolo Eh sì è proprio lui È vero Dei laghi simbolo delle regioni di Sinno Famoso per la sua abbondanza d'acqua È associato a una strana leggenda Associato a una strana leggenda Ah non ho idea di cosa parli Fico È il secondo che trovi Ti ricordi dove era il primo? All'inizio dell'avventura no? Bravissimo Bravissimo Vuoi dargli un'occhiata magari sulla mappa? Vuoi vedere cosa dice quel lago? Facciamolo Lago Verità È associato a una strana leggenda Ok Interessante il fatto che L'essere famosi Per l'abbondanza d'acqua Ah no è Sinno Non i laghi Ok Grazie A Piera Perché altrimenti era Cosa? No niente Sembrava che volessero descrivere Forse i laghi come famosi Per l'abbondanza d'acqua Va bene uno magari speciale Per qualche fondo profondo E invece pensavo Siete un po' imbarassati Invece no Parla di Sinno No 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 Parla Del lago No no La regione di Sinno È famosa per l'abbondanza d'acqua No no dice famoso Uno dei laghi simbolo Della regione di Sinno Ah ok Famoso per la sua abbondanza d'acqua No 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 è giusto Ok va bene Non è corretto È corretto Sono entrambi famosi Perché c'è tanta 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 acqua Sono molto profondi questi laghi A quanto pare Ok Alla Loch Ness Va bene Sì bravo Sono molto profondi ecco Questi Ci hanno chiesto di non far avvicinare nessuno la zona del lago Vuoi sapere perché? Non saprei Sembra per proteggerlo Va bene Ci hanno chiesto? Ok Siete tutti d'accordo? No Proteggere il lago È bello sapere che esistono ancora persone così mirevoli Credo che fossero ordini di un certo Cyrus Chissà chi è questo Cyrus Proteggere O potrebbe anche Cioè potrebbe Non essere il capo del team Galassia Quello che abbiamo incontrato nella grotta Ma Io non so se Non so se Cercare un pokemon qui o No Magari nel lago Ok è giusto giusto Vediamo Però aspetta Lago è una cosa e riva è un'altra Ah e stavo pensando di chiedertelo infatti Allora beh Vediamo che succede Qui tanto non ci sono Altri luoghi in cui incrociare pokemon Il nostro vecchio amico Un guberino Il barello Esatto Oh mio dio Oh mio dio Graveler Allora Mi sa che non ho mai incontrato Guberone Selvatico Lo catturo Allora Xenia Che ansia Hai addirittura usato protezione Fa così tanta paura Ok non aveva vigore ragazzi Ho fatto un lancio di una moneta qui Veramente il lancio di una moneta Ah posso non catturarlo il nostro bivarello Vuoi non catturarlo perché tu hai già biduf Quindi hai già un pokemon che fa parte di quella linea evolutiva Ah giusto È vero Di conseguenza è una tua scelta Capito Come quando potrei ritrovare l'evoluzione del primo The joy il primo Esatto Eccolo Per entrambi è una cattura Grande Io ho una paura fottuta di questo cesso Perché ho visto i danni che ti faceva Infatti adesso prendo il tank Andiamo Perfetto L'ho shottato perché sono un imbecille Nooo Nooo Poverino L'ho proprio Un po' shottato malissimo Allora Speravo che lo reggesse Era neutra su di lui Però è anche vero che ho Huge power Vabbè osserviamo Ah hai creato una master ball Ah vabbè allora Dai No vabbè è master ball Tranquillo tranquillo È una master ball È automatico Nooo Nooo Master sus ball Allora No 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 Ti dico che è una master ball Quello è costano Io sto premendo A Ah ok Allora se non hai premuto A È normale Cioè è una master ball Ma richiede No Dobbiamo premere A e B incrociati Allora io non posso fare colpi Perché come lo tocco Lo distruggo questo Ragazzi l'ho già preso Rispondo alla mia chat Girafarig Ma non contava per la squadra Questo sì Quindi ecco perché lo sta riprendendo Va bene Girafarig È il momento di buttare in mezzo Qualcuno che ti faccia un po' di danno No non è vero Vabbè Shania può fargli un po' di danno No È di livello 33 35 però Hai paura che faccia la fine Che ha fatto con me È di livello 35 Esatto Però è anche vero che Shania non è un attacker Però secondo l'ancena master ball Non si pone il problema Quindi a posto Sì Aspetta io sono cresciuto Con un mito Dimmi Sicuramente un mito Ogni pokemon che lanci Aumenta un pochino La percentuale Oppure no 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 Cioè sì con una bolla In particolare Però Sì no quella la ricordo Allora Attenzione Girafarig maschio Sì Ok a questo punto Facciamo Tu hai chiamato Guberino Il Goober secondo Il Ah ok Visto che Il video in cui ho incontrato Pizzone Aveva il suo avatar diviso con quello di Goober A questo punto Questo lo chiamo Pizzone secondo Perfetto Perché era Perché era Perché era Bicefalo Perfetto Pizzone Bicefalo Mamma mia Che essere pazzo Normale Psico Ficco Sì In effetti Io non ho Più Otaku Eh Dai Eh però qui La scelta è otaku Oppure Cioè o meglio Girafarig O stanchi Perché C'è da dire che ora ti si ripete Il tipo buio Però comunque Da una parte hai il veleno E dal lato il fuoco Quindi ci può stare Infatti Come faccio adesso Ho perso di nuovo la chiave della suite Da qualche parte Quelli dell'hotel Non faranno di certo i salti di gioia Quando ero la reception L'avevo senz'altro con me Ok Che posto è questo Oh Che c'è Eh Mamma mia Aggressivo Stop Stop Eh sì Parlo con te C'è stato un grosso blackout Da Renipoli La città più avanti Stanno cercando di ripristinare la corrente Ma le strade sono interrotte Vabbè ho capito È un blackout Non è un terremoto Comunque Eh no Non si può È come Sono giapponese Mi maicano Ristorante È un disonore Un tripudio di sapori Va bene Andiamo Attenzione Servono Pokémon qui Allora Cioè tu apri la Pokéball E li mangi vivi Fichissimo Certo I piatti proibati Sono solo una Delle nostre tante specialità Da cui potrei gustare Anche lotte Subli Oh mi ricordo I funghi giganti Pieni di soldi Che facevo In XY Bravo Bravo Nei ristoranti Esatto Questo È chiaramente Sì Eh Ok Aspetta Parlaci Pensiero speciale A mia mamma Mia moglie In ospedale In attesa di partorire Sono venuto qui Con nostra figlia Perché io non sono Granché come cuoco No Ecco fai no Fai no Vieni qua Vieni qua in mezzo Ma questo è palesemente Il cattivo di un JRPG Ok No no Ci sono Cosa noti Guarda il mio schermo Nel tuo schermo Oh sono diversi Sono version exclusive Che figata Quindi Non avremo per forza Gli stessi avversari Che figata Ok Io seguo te Ma Qualora dovessi prendere Ovviamente Avversari che Io non ho Prenderò i miei esclusivi Quindi a te la scelta Così non me li spoilerò Dai Va bene Ok partiamo da lui Li abbiamo entrambe Spero che non siano troppo forti Perché sto tenendo il Pokemon Debole per fare tutti i soldi Allora vediamo Let's go Ma che fighe queste Emanuel E non so Attenzione Non vogliono proprio fare volvere I loro Pokemon No mai Porca miseria E guarda c'è anche la voragine Della gonna La puoi ben vedere qui Tra l'altro Nel pavimento Che non riflette un cazzo Quindi il cia Che il ciazzo fai Cioè Praticamente Ha detto Non voglio neanche avere il dubbio Va bene Complimenti Che palle Un po' E' un po' Si Masciano B Si come Barry ragazzi Sono dei pazzi che Si spaccano le mani sul tasto B Visioni di censura Eh si Veramente Però Cioè Parassi seme E' una mossa Pokemon Non a dare Vero Cioè non fa Parassi seme Con la specie La specie di Bambu robotico Ok si Ok ecco Celestila Era tranquillamente In grado di Buttare i semi Su entrambi E tancarsi Due pokemon Da quanto era forte Porca miseria Porca miseria Sì sì Terremoto Non colpirebbe Joel Vero? No Assolutamente La combo base Che si impara Nei giochi pokemon In single player Terremoto Con accanto volante Oppure Con levitante Certo 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 Infatti Per esempio In competitivo Rotom Levita Non so se ti ricordi Rotom Sì sì no Rotom è fortissimo Ecco Rotom accanto Che levita Con un bel Terremotatore a destra E vai a fare Il panico Fantastico Allora No Provenzor levita L'abbiamo Abbiamo detto È fortuna che l'ho shottato Il professore Non lo saprà mai No no Io non ho sentito niente Ma ricorda ragazzo Oggi sono allenatori Domani sei alla Lega E hai perso un po' No 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 Avrò tutta un'altra testa Sarò Sarò Spaventatissimo La casa sarà molto più Allegra e vivace Con l'arrivo di nuovo bebe Va bene Allora tu Ok qua torniamo sempre in coppia Ok Non apprezzo Ma anche i prezzi di questi piatti Non scherzano Che c'è? Hai fame anche tu? Ah no fammi indovinare Vuoi lottare? Sì Sandrino Sandrino e Georgia Minchia Minchia le coppie più innaturali Che possono esistere Opposti Mr. Mime Tra l'altro giustamente in chat Ricordano Che non sempre i pokemon Con levitazione Hanno sempre levitazione Nel caso di Hunter è così Ma nel caso di Bronzor Non lo è Potrebbe anche avere Heatproof Antifuoco Che gli toglie La debolezza al fuoco E intanto puoi notare Un'altra voragine Ovviamente Allora Morse non è super efficace Su Mr. Mime Perché è anche tipo normale No Cioè Mr. Mime è psico? No no Acqua e basta No aspetta No aspetta perdona Mi stavi parlando di Mr. Mime E non di Psyduck Mr. Mime è psico folletto Quindi Morse gli fa per uno Esatto Ho capito Ho capito Ho capito In questo punto Teniamocelo Eh hanno giunto il folletto Yes Vai skunk Non mi ha fatto niente Debolissimo E' chiaramente la gonna del vecchio ragazzi Sì sì È chiaramente la gonna del vecchio Che fa censurare tutto 5 hit Bravissimo Oh yeah Mi sono tagliato ragazzi Con la mia mandibola Scusate Ok Questi tu non li hai Tu hai questi qua sotto Quindi adesso ci facciamo quelli esclusivi Va bene Va bene Oddio perché mi sono spaventato a morte C'era la mamma che diceva Sono molto fiori di te Hai preso un ottimo vino Cazzo dici? No un ottimo voto Un bambino di 3 anni Ah Renipoli Posto pericoloso Già Oh che carina La mamma con tutti Oh Oh poverini Ma veramente comunque Cioè Allenatevi sti pokemon Cioè ragazzi Mediciam è così forte Che fa sorbipugno Su cadabra E lo shot E non è molto efficace Ma quanto cazzo È forte Mediciam Oros ti non vede l'ora Di vedere la tua fantastica strategia Vuol dire che devi ingozzarlo di erbe Quel bastardo Esatto Come ti permetti di essere mio amico V per E anche terra Lo diventerà Ma non mi sembra Oddio forse lo è già dal primo stadio Ragazzi ricordatemelo qui Mi sa di sì Sicuramente con Quagsire lo è Però non mi ricordo se già V per Mi sa di sì Mi sa tanto di sì Mi ha turbo fregato Eh allora sì Già terra sì Mi confermano che è già terra Non ricordo mai Ci sono certe evoluzioni Delle quali non ricordo mai Se appunto Cioè perdonami Delle pre-evoluzioni Per le quali non ricordo mai Se sono già doppio tipo no Ovvio Che paura i Pokémon comunque Che paura i Pokémon in generale Quando non vengono shottati Ebbene Eccolo il mio cerrimo nemico Che paura i Pokémon di merda Ok Succa Non si dice In un gioco Pokémon Ragazzi Bisogna mettere Il riflesso davanti Alla labiale Sì 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 Opaco Scusa Perché la mamma Non ha il pavimento opaco Non solo la mamma Anche Perché è una pussia anziana No 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 Ragazzi di Nintendo Scherzavo Più che altro C'è la tipa La reporter Contro la quale sono E che puoi Insomma interpellare Presto anche tu Ok Ha palesemente una gonna Però a quanto pare Non Non è importante Non è importante Fuck Faccio il chad Faccio il chad E me ne pento ragazzi Faccio il chad E me ne pento Faccio il chad E me ne pento Non me ne pento Che bello Non pentirsi No è vero Che in Giappone Sopra i 16 anni Non sono considerate Femmine Perché Come tutte le storie Ragazzi di Nintendo No È la chat Che mi spiega La cultura orientale Ma è vero Pensa Pensa alle eroine Di Final Fantasy Lulu Ha 22 anni Ed è considerata Una cinquantenne È vero Hai ragione Hai ragione Sì 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 Considera che Eh vabbè Dimmi dimmi tutto Anche Bandai Namco Ormai si è abituata A quello che succede Con Guardiana del Fuoco Ma infatti io credo Che Melina Vada in quarta elementare Esatto Basta 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 Comunque si Ha 22 anni Lulu ragazzi Ed è vero A parte gli scherzi Che nei videogiochi giapponesi Sì 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 Cioè nei videogiochi giapponesi Le ventenni Sono trattate Come anziane Sì assolutamente Sì Cioè Lulu Non è matura Di più Lulu è La donna Cioè Sì sì è vero È vero È vero Sì sì Riku quanti anni ha Riku ne avrà Penso 16 Quanti ne ha Ragazzi Wiccate un secondo Quanti anni ha Riku Perché comunque È sposato con Sora Quindi No no io dicevo Riku Ah Riku 15 Riku 15 Riku 15 Riku 15 Terza di seno Quarta circa E ha più Fanservice Shots Di qualunque eroina Di Final Fantasy Futura e precedente I know I know No Riku non ha 16 anni Ne ha 15 sicuro Sette e mezzo Quasi otto Oh no Oh adesso Chiacchierando e ridendo Mi farò uccidere un Pokémon Sono sicuro No 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 Sono dei merdoni questi Ok Sì sono dei merdoni Però attenzione Dei merdoni Però attenzione Che bella espressione Ha fatto lui Sconfida Oh cavolo Che imbarazzo Ho perso Riprendere il cibo Non è facile Anzi richiede Molta tecnica Insomma Instagram Non è d'accordo Allora Non userò cure Perché sono ancora messo bene Mancano solo Questa Coppia di anziani Stupende Che terizia La cultura flambè È proprio la più adeguata Per i piatti del genere Questi ricchi sapori Sono una gioia Per il mio fortunatissimo Palato Vuoi interrompere Questo nostro squisito pasto Con una lotta Beh sei giovane Ma la passione Non ti manca Va bene Tu pensa Il disastro Che fanno Pokémon Che castano Surf Nel tuo ristorante Mamma mia Davvero Tutte le sedie In giro Una merda Attenzione È un Pokémon Evoluto Molto rari Allora Starly Via Ah bei tempi Attacco rapido Qualcosa che non fa così tanta paura Ok Ok Giustamente Non posso chiedere troppo Cosa? Che bello Eh ho fatto un attacco Allo punni Con Violugo Ma Insomma Giustamente Eh piano Sei ancora indietro con il livello 26 Piano 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 Non preoccuparti E ci siamo ragazzi Anche questa squadra è completa Anche se presto Wow Sta per arrivare Una new entry Se ho fortuna Nel prossimo percorso Cavolo Spero veramente di sì Figo Figo Tu puoi pianificare In effetti Eh 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 Sì Boom Empoleon Pokémon imperatore Nuota veloce come una moto d'acqua Le estremità delle ali sono talmente aguzze da fendere banchi di ghiaccio Vuole imparare Acquajet E noi gliela insegniamo Acquajet Gliela insegniamo Ok Peccato che non ti viene un attacco per il Pokémon successivo Quando cade Ok Fa tentennare sempre il bruciapelo No Ok no Qual era la tattica di Kangaskhan Mi ricordo in XY Nel competitivo si usava Kangaskhan Perché faceva Un attacco immediato Che ti faceva tentennare Non mi ricordo E c'è Bruciapelo Ah ok E ti fa tentennare Appena entra te lo fa doppio Perché chiaramente è mega Quindi lo fa due volte Poi cresci pugno E la faceva due volte Quindi si bustava per due l'attacco Attaccando In un solo turno Poi ti faceva sdoppiatore Ti spaccava la famiglia Perfetto Ammazza carina sta cosa Gli anziani erano pieni di soldi Perché appunto erano adulti Hanno vissuto E' certo E' certo Perfetto Il tripudio di sapori Lo abbiamo rovinato a tutti Adesso Percorso Riva del lago Valore Ah ma quanta roba È un posto lusso È tipo un resort questo Eh sì lo è Guarda che figata Preferisco la piscina al mare A un dungeon Sì sì La piscina Wow Addirittura Oh Ciao Sono il game director Ti stai impegnando a completare il tuo Pokédex Non è vero? Chissà quanti Pokémon incontrerai Ah quindi Lui è Junishi Masuda Esatto 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 Tra l'altro si riconosce pure Sono uno Lui invece È il tizio di LCA Non ricordo il nome Ok C'è 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 Vabbè Sempre stracolmo Della stessa roba Però Qui c'è una certa lore Sì C'è Sai da chi è il tuo Pokémon preferito Hai preso Niente Hai preso Le mie parti Fortunatamente Hai fatto Ciò che avrei fatto io Nel tuo ruolo Cioè Sei stato Sei stato Michele Sei stata Sei stata una persona Che dinanzi a Un ambiente come questo Ha dato un insight simpatico E un trivia Intelligente Io invece qua Stavo tramutandomi Un po' più in te Stavo per far notare Che c'è un solo letto Però Veteran run inversa Veteran run inversa Grazie Grazie mille Avevo bisogno di questo Oh sì Fanno il sesso Ragazzi Cioè Ci sarà Un po' di sesso Tra uno sviluppo e l'altro Tra un copia e incolla Di diamante Su diamante lucente E l'altro Ci sta Un sessino Fiori bianchi Niente ragazzi Ho distrutto per sempre Questo creator Mi dispiace Un tempo era una persona seria C'è niente qua Un'altra casa Oh no Allora Guardami negli occhi Lascia che prevedi Il tuo futuro Presto farei Un incontro magico Anche se non so dire Se sarà con un pokemon O con un allenatore Spero che non sia Il tuo amico qua Io sono una persona semplice Lascio parlare La mia chitarra Ah no Mazza È il fighetto Come si chiamava Il rocker di Diamond is Unbreakable Mi accontento Cazzo Quello con red hot chili pepper Esatto Se ho queste due cose La vita mi sorride Ovunque io vada Siamo un gruppo di artisti di strada Per festeggiare il nostro incontro Voglio darti queste Oh Pensavo delle botte Ok Perfetto Oh Sei in viaggio anche tu Sì è proprio bello Vedere altri luoghi Hai mai sentito parlare Della torre campana Nella regione di Yoto Il pokemon dai colori arcobaleno Devo assolutamente Vederlo almeno una volta Nella vita Oh oh no Sì giusto Ok Ok Sì sì Se entri esci Ti dà vari trivia Ah sì? Sì sì Ti parla di alcuni leggendari Ma niente di Entusiasmante Ok Qui però Allora Fermo un attimo Sono indeciso Esatto Ok Dimmi La donna all'inizio del percorso Ti ha detto una cosa Ah sì Che la chiave la pensa davanti a una reception Esatto Che sarà lì no? Perché ha detto Della suite Quindi dell'hotel non faranno certo Quando ero alla reception L'avevo senza attorno con me Sì Immagino Che quello sia l'hotel Esatto Non servirà neanche il cerco a strumenti Comincio a premerà come se non ci fosse un domani Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dai Beh allora Lei ha detto che alla reception Le aveva con sé E poi le ha perse E poi le ha perse Questa è la reception Eh vabbè Magari L'indizio è Le aveva alla reception E poi le sono cadute Dopo che ha parlato Non devo usare il cerca strumenti In tutto il resort Vediamo un po' Ah dici che era Aspetta Mi ha fatto Ma mi ha fatto Cosa ha fatto? Ti ha curato Ti ha curato Non ti ha rubato niente Non ti ha rubato i reni Non ti preoccupare Allora aspetta Fammi Oh no Oh no Posso consigliarti un Xino Pazzo? Sì Pazzo Pazzo Tu Xina pazza Fidati del professore Ok Fai Xino pazza Sono impazzito Io qua l'ho cercato Non c'è niente Persisti con l'Xino pazza Mio Dio Ok Il cerca strumenti Avrebbe fatto il suo lavoro Però per fortuna Ok Fantastico Ok perfetto Mamma mia Che sofferenza Ammazza Così Non c'era neanche la quest Di mentirle Farla andare alla reception E rubarla dentro casa Però ora c'è un letto solo Il cestino dei rifiuti è vuoto Loro E il letto pure Disse all'allenatore di dieci anni Grazie per avermi aiutato Tieni Voglio ricompersarti per il disturbo Lavottino Ok Rimedi Ma che Si guarda ti fa un lavottino Eh Sì Tra i giovani di Simno si dice Mi fai un lavottino Cura tutti i problemi di stato Perfetto No ma Tutti Tu Quando ti fanno un lavottino Non c'hai più niente Risolvi Per sempre ogni pensiero Quando adesso affascita Dal panorama Durante le mie passeggiate Mi dimentico completamente Oddio santo Però che svampita Andiamo via Ah vabbè Grazie comunque Di un lavottino Cazzo che è questo Ragazzi Vabbè Sempre meglio Di ricevere Miu In un parco Però No infatti Non ci lamentiamo Però qui a destra È un po' complicato Perché ci sono bivi No Vabbè Però guarda Se osservi bene Vedrai Che c'è roba Che non puoi Esplorare adesso Ok Vediamo una spiaggia Coccio rosso Yup Strumenti vari Vediamo E chi mi E chi mi distingue Un coccio rosso Da Aspetta no Da una lastra Un piccolo coccio rosso Che con ogni probabilità È un frammento Di un antico strumento Ti sei fatto la domanda giusta Esatto Questa però sembrirebbe La descrizione Che si fa un bambino Quando trova un coccio rosso Interessante però È un frammento Di un antico strumento Coccio rosso Ok Figo No joking Ma ne sto qua Tranquillo Di fronte all'immensità del mare Perché sono un elegantone Mi si dice di più Stare sul lungomare Che fra le onde Diciamo che se C'eravamo dati Led cannon Delle lastre Che in realtà Sono pezzi di lastre Più grosse Direi che Ne abbiamo la conferma Decisamente Infatti Mi aspettavo Che sarebbe stato Uno strumento diverso Da un potenziamento Generico Ai pokemon Però non pensavo Che fosse Quasi un oggetto chiave Figo Un frammento Dell'anima oscura Ovviamente Le titaniti Del mondo pokemon Bravi Sì bravi ragazzi Adesso Uccediamo il pokemon Di questa bambina Esatto Anche lei Tutti Sono i naslock Quando noi giochiamo Alla naslock E a me piace pensare Di sì Infatti L'unica vera naslock È quella di rosso E blu Perché Gary Cambia pokemon Spesso E quindi Perché Perché glieli ammazzi È giusto In realtà In realtà Il rivale Che cambia più volte Pokemon È il rivale Della quinta generazione Figo E via Uh tossina È forte Tossina Iperavvelena E non fallisce mai Se usata da un pokemon Veleno Questa cosa non ti viene Spiegata ovviamente Ma te la dice il professore Grande Ok Tossina è tanta roba Mamma mia Iperavvelena Tra l'altro Non so qual è la differenza In percentuale Con veleno Iperavvelena Vuol dire che fa sempre più male A ogni turno È esponenziale Ok Figo Figo E Aggiungo Pensa avessi avuto ripresa adesso Entri con stanchi Metti tossina Metti gastrodon Ripresa 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 Ora lo devi fare a pagamento Ho capito Oh Queste informazioni ragazzi Si scoprono solitamente Col datamine O con L'esperienza Peccato Per esempio Ricordo bene Che quando Misero in sole e luna L'impossibilità Per i pokemon Buio Di essere colpiti da burla Si scopri giorni e giorni Dopo l'uscita Vediamo un po' Sono a 2.27 Dai Abbastanza Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Avvicinando A Yanta Com'è a livello Non male Almeno con il superman Cavolo Tosto 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 E purtroppo Qui vedrai Questo te lo anticipo Sarà un po' Deludente Questa palestra Da un certo punto Di vista Nel senso che Secondo me Il bilanciamento Del leveling Non è ottimale Sarà una parentesi Di sola Questa palestra Però Ok ok Va bene Beh D'altronde Con questo gioco Si over livella Sempre Perdonami Però Sì Diciamo che in questa palestra È particolarmente evidente Perché lo era già nel gioco originale Quindi figurati col condividi Expo Certo Ok Sì però C'è C'è un Qualcuno Non la parazione Serve da chiedere Avete Comunque dei Pokédex ampli Ciampi Perché Sti allenatori Hanno sempre Tre copie Dello stesso Cioè Non capisco Sono d'accordo Cioè Manco Manco gli chieresse Manco andasse fuori Fuori tema No Cioè Allora Mia mamma Ha gonfiato la ciambella Perché io non avevo Abbastanza fiato Eh sì Strono Surfer si avvicina Allora Sì 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 Dove vai? Ah giusto È vero C'era Che io Avevo un cuore in testa Perché non ho visto Il vicolo cieco di là E allora avevo Tranquilla Hai preso tutto per ora Ok ok C'è un hotel Elegante In un luogo elegante Con un ristorante elegante Questo è il tizio Che ha scritto Le descrizioni Del re di ferro Il ristorante È pieno di gente elegante Che penso Oddio santo Perfetto Spingerli in mare Sub Oh no Quel pokemon L'aveva quasi abboccato La mamma Fa i lavottini L'hanno scritto Anche da me Ma non volevo Abbassarmi A leggerlo Ma sei veramente Me in questa razza Allora La mamma Fa i lavottini È tutto vero Vai Io non sti Dai È il momento Di un Geridos Manco fosse veramente Pericoloso Cioè noi stiamo giocando In Nuzloc Che ci trovano Tre magiche Ma ce l'ha Tutti Tutti Minchia Cazzatissimo Questo Beh magikarp Dai abbastanza Easy Vabbè sì Poverino Quanto è bello Magikarp Shine Doro Esatto 40 Neanche i punti Oh Geridos Professore Mentiroso Vabbè È un Geridos Al 22 Non vale Vale come magikarp Sì Tra l'altro Quattro per Quindi Sì sì Qui è proprio Lo Brusci Dai brutto colpo No Quello sarebbe stato Molto pardiniano Perché non sarebbe servito A nulla Giusto il termine Oh Eccoli i punti esperienza Bomba Eh sì Ne è da tanti Ecco Vedete Tre pokemon Diverse Oh Così si fa Ah Sai qual è Uno dei pokemon Che meno apprezzo Per il fatto Che Uno Non sembra un pokemon Due Non credo Abbia mai avuto evoluzione Tre È generalmente Scarso e inutile Purtroppo Non mi ricordo Il nome Ma lo conosci Immediatamente Nell'istante In cui te lo descrivo È il pokemon A forma di cuoricino Luvdisk Luvdisk Fa cagare Beh sì Fa molto cagare Però è utile Nei gameplay Perché Ha le squame cuore Addosso E quindi tu gli fai furto Gli le rubi E le usi Per ricordare le mosse Ai tuoi pokemon Carino Però mi sembra strano Che sia un pokemon Così lasciato A sé Sì Strano Cioè Io sono convinto Ogni tre mesi Che si evolva In alomomola Ma questo non è vero Quindi Anch'io No no Sì assolutamente Così come C'è un In mente il nome Replicant C'è un pokemon D'acqua che finisce con Ant Relicant Relicant Ah non repli Relicant Relicant Però attenzione Perché Relicant Fa male Relicant è un pokemon Molto forte No stavo dicendo Quello invece è fighissimo Ah ok ok Però mi piace un sacco Per me è abbastanza facile Capire i pokemon Basta che vedano le loro orme E capisco subito Cosa pensano Come? Non mi credi? Prova a far camminare Stonky Davanti a me Si chiama Vio Lugo Dalle sue orme Riuscirò a capire Quello che gli passa Per la testa Va bene Ma cos'ha per la testa Sap Perché mi ha aggiunto La sua squadra E poi non mi fa fare niente Sei il primo Sei al primo posto Pensa che sono inutile Si è pentito Di avermi scelto No Ho intenzione Di trattarmi Come gli pare Senza badare Ai miei sentimenti Ma questa è tutta lore Questo è quello che pensa Stonky Va bene È il momento di Joel Ovviamente Li leggiamo tutti Qui ragazzi Perché in una Nuzloc Questa roba è particolarmente importante Vi leggo Mediciam Intanto Io e Water Enzo Siamo una coppiata perfetta Finora ho visto Tanti tipi di persone diverse Ma Water Enzo Capisce i miei sentimenti Più di chiunque altro Adesso per esempio Ho un po' di fame Ma ovviamente Water Enzo Lo sa già Vero Si tiene un'erba Che sa di merda Tocca a te Ok Allora Dai Joel Non esistono Pokémon A cui non piacciono Gli esseri umani Solo esseri umani A cui non piacciono i Pokémon Soprattutto noi Crobat Veniamo evitati Oh Ma io Sono un pessimo allenatore Ti trasmetto questo Ah no Ma Sabio Mi tratta sempre Con amicizia E rispetto Oh Crobat Crobat Non lascia Eh si Oddio 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 Esatto C'è un grande legame Invece Tra te Esatto Vediamo cosa ci dice Banani Allora Questa avventura con Water Enzo È un vero spasso Mi porta in posti In cui non potrei andare Per conto mio E mi fa lottare contro Pokémon Mai visti prima Diventerò sempre più forte Per lui Che bello Che bello Ok vediamo un po' Gastrodon Non avrei mai pensato Di viaggiare Con un essere umano Se i miei amici Gastrodon Mi vedessero ora Sarebbero sconvolto O magari Mi invidierebbero Questo è quello che pensa Oh Ma è tutto il bello Che non si ripetono Bellissimo Esatto Epoleon Ok Water Enzo È fenomenale Sia come persona Che come allenatore È tutto merito suo Se riesco sempre A essere il migliore Epoleon Che posso Quando siamo in viaggio Vedo che i Pokémon Selvatici Mi guardano Mi guardano con invidia Perché sei vivo Questo è quello che pensa Epoleon Ti è venuto di nuova voglia Sì Vediamo un po' Il mio main Non è vero Il mio main Ma non lo sai Ah ok Questo è quello che è tutto Adesso Perfetto Perfetto Eh sì Perché è uno starter Ah Lo starter Abbiamo letto gli starter Un altro fiocco or Mi ha dato Ok Ho due fiocchi or Vado con Sif Va bene Mi manca solo Orsti e Ifrid Water Enzo è fenomenale E niente Qui si è ripetuto Ok ok Vediamo un po' Houndoom Di solito i Pokémon Della mia specie Preferiscono i luoghi Umbiti e pui Ma quando sono insieme a Sav Anche i posti luminosi e vivaci Non mi sembrano poi così male Sav ha un certo carisma Oh E non si fa neanche pagare questo Cioè è incredibile No Intanto invece Credo Geridos Sto cominciando a dimenticarmi di quando ero un Pokémon selvatico Ma non sono triste perché quando sono con Water Enzo non mi annoio mai Sì era Geridos Che non lascia Orm Ok ok Finito Già fatto E io ho Starly Vediamo cosa ci dice Starly Se un Pokémon viaggia da solo non può andare dappertutto Ma quando viaggia con un essere umano può raggiungere città e paesi più distanti Viaggiare con Water Enzo è molto rassicurante E anche molto divertente Oh Perfetto No Ho misclicato Sta diventando vuoto Attenzione Subito litigiosi Let's go Ah stiamo facendo dei bei percorsi fluidi Andiamo Sì sì Ah ma stiamo andando molto bene Clamio Carino Normale è debole a Sì con Lotta Poi? No normale è debole solo a Lotta Cavolo È immune a spettro E spettro è immune a normale Ah ricordavo proprio male Ok Inoltre credo sia debole a questa fiammata Povero Blissey Usato come arancia fiamma Sì è bellissimo Esatto lo prendo proprio in mano io Troppo forte Ecco qua Come combattono gli adulti signorina Ha 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 Che Ho η Aeroassalto chi la usa attacca il bersaglio a grande velocità questo attacco è infallibile ecco qua la versione volante di comete ah esatto ma a grande velocità è solo flavor no è flavor ok ok figo c'è qualcosa sulla cima di questa roba me lo dice il mio istinto ma come faccio a sedire lassù eh non con la bicicletta purtroppo adesso preghiamo ah ok ok è il momento dell'RNG ok il pokemon è giusto ma lo fa subito ragazzi o lo scopro solamente vivendo cosa la fuga scappa no no mi sa che l'avrebbe dovuto fare subito o no no ok no death god sends me good un altro shellos preso acqua volante giusto acqua volante corretto poi non ho preso le bacche prima allora a questo punto wingal pokemon gabbiano usa le sue lunghe ali per farsi sostenere dai venti marini librandosi in volo come un aliante quando riposa le ripiega non mi ricordo se ho preso per la per la cattura il buizel forse dovevo prenderlo mi sa che eravamo preso per il pokevex ragazzi voi vi ricordate se a me invece pare che tu l'avessi preso era tipo arancino ah può essere il mio era ivano ah era carotino è vero era carotino carotino ecco è vero è vero era carotino era carotino sapete cosa il percorso 213 era anche nell'acqua oh no com'è la natura la natura è un po' così e così però ha l'abilità giusta oh grande qual è idratazione che poi diventa un'altra cosa ma non te la spoiler che magari se lo vuoi catturare anche tu va bene va bene va bene che goduria che goduria però mi sa che qua c'è solo lui come pokemon nuovo mi sa però cosa tolgo mannaggia eh quello è duro anche per me infatti non sono molto emozionato l'idea perché ho già gastrodon come pokemon d'acqua e non saprei eh qui c'è anche il mare come percorso esatto ma per esperienza limitata che ho nell'acqua che io ricordo in pokemon ci sono sempre solo tentacle tentacruel ma anche soltanto sheldar eccetera le peschi che io ricordo quindi boh cloyster è fighissimo secondo me però eccolo 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 lì carino che è il primo grande test delle pessime animazioni di spada e scudo allora si erano degli aquiloni si esatto scuro ball vai no non è andata non fare troppo male che io ho il pokemon debole ok vabbè non può farvi di tanto il suono magico allora no ragazzi non posso togliere geridos no perché alla fine è volante acqua no mono water ah nidifica su scogliere a picco sul mare mi sa che per ora va via stagli dalle correnti ascensionali soprannome va bene chiamiamo calamino cala calacquino come sono smart mamma mia che bei nomi allora invia i box mostra le info vediamo un po' natura quieta attacco speciale su velocità giù sguardo fermo com'è sguardo è quella sbagliata no è quella sbagliata purtroppo sguardo fermo non è quella che deve avere quindi puoi tranquillamente salutarlo ma difficilmente l'avrei messo comunque quindi era difficile ok niente oggi no back pratopoli andiamo quando passeggiamo in spiaggia lasciamo le impronte sulla sabbia anche i pokemon piace lasciare le impronte come le persone è lungo arrivare fin qui da rupepoli sono esausta pratopoli allora mappa in origine questa città era stata fondata per proteggere la gran palude con gli anni cresciuta poco a poco ci sono i piromani esatto l'osservatorio consente un attimo visuale della gran palude da qui inoltre ah si può cedere il gioco safari yes è quella sera amico mio che bello io mi ricordo il safari taurus santo cielo eh si quanto era difficile beccare taurus e taurus era era stra difficile alloggio all'hotel che si affaccia sul lago perché voglio vedere la gran palude ok oh team galassia questa signorina sei proprio impaziente come il ragazzo che ho incontrato prima anche lui era molto attaccato alla squadra pokemon che aveva mi hai messo di buon umore quindi voglio ricambiare sembrava che fosse arrabbiata ora ti sfida e ti ammazza va bene va bene se sei poffin ok c'è un tesoro nascosto qui no allora la ragazza di mio fratello fa la toilettatrice rupepoli ah ok la toilettatrice pokemon vanno molto d'accordo e spesso passeggiano insieme in compagnia dei loro pokemon hey tu mostrami il tuo pokemon voglio vedere se si merita una fascia capisco non mi aspettavo certo questo non voglio mentirti quindi parlerò chiaro non è male ma da niente eccezionale se vuoi migliorarne le virtù dagli dei poffin aspetta che arriva joel lo ti faccio vedere io è maxato? ehm temo se non è maxato purtroppo non gli piacerà lo stesso qui servono per poffin ingozzarlo di poffin si bentornati ad acchiappare il pokemon se c'era il logo del team galassia in tv comunque pericoloso anche oggi metterò sotto i riflettori una cattura davvero pazzesca siete pronti? l'allenatore che ha attirato la nostra attenzione stavolta è niente meno che sub siete buono no ma sei bravo sei sempre in televisione porca miseria ma vi starete chiedendo cosa avrà mai acchiappato il nostro sub un esemplare di wingle scarsissimo ecco cosa bel colpo sub questa si che è una cattura coi fiocchi non male oh ho ricevuto un aggiornamento mi hanno comunicato che sub ha dato un soprannome al wingle siete pronti? l'ha chiamato canaquino ma pensa te ma pensa te sei troppo forte sub santo cielo poi ha continuamente stalkerizzato sto bambino si 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 grande fratello Truman Show non tutti gli allenatori fanno evolvere i loro pokemon appena possono alcuni aspettano prima che abbiano imparato le nuove mostre salendo da di livello che ansia di prestazione di mettere sta cosa gran palude di pratopoli eccola lì che nervoso e tu che sei? cosa fai qui con solo tre medaglie? i bambini come te dovrebbero tenersi lontani dal team galassia e quant'e ne hai tu di galassia recluta? dunque questo pacco da rupepolino dove farlo scoppiare? sì il team galassia si divertirà molto con questo incarico scoppiare? scoppiare dove farlo scoppiare? scoppiare? è strano cioè a parte che è bellissimo che queste reclute non fanno altro che parlare però mi sembra strano cioè non credo sia una bomba però scoppiare no vabbè una bomba in un mondo pokemon no esatto esatto è quello che intendo dire appunto è quello che suggerivo esatto non è un esplosivo quindi un pacco da far scoppiare potrebbero essere esche vediamo allora io prima c'entro pokemon così finalmente facciamo il punto della situazione la gran palude è davvero enorme vuoi sapere tra quanto? prova ad affacciarti e vedrai eh vabbè una volta la gran palude di pratopoli era un'estensione del mare con il tempo il mare si è ritirato lasciando quell'enorme terreno paludoso oh bello questo racconto per questo si dice che esistano alcuni pokemon rari presenti solo qui carina sta cosa ma magari i dialoghi fossero tutti così o meglio che è un terzo ti posso dare un insight devi c'è un territorio super paludoso in leggende pokemon archeos probabilmente è l'antenato di pratopoli ah che figata quindi si è già ritirato il mare in archeos si probabilmente si e quella paludese è già vista nei trailer bello ok sembra piccina pratopoli rispetto a quello che è rispondito ad ora è piccolina rupepoli è una bella città grossa il capo palestra è impressionante in un certo qual modo è difficile da spiegare capirai cosa intendo comunque oddio è stanchissimo lui nella gran palude usano una navetta su rotaie per il trasporto pokemon snap ciò permette di proteggere l'ecosistema carino e adesso passiamo alla notizia dell'ultima ora sab ha rinvenuto una chiave suite sul percorso 213 non è chiaro come si è venuta la scoperta ha ixato ma stato alle testimonianze sab si guardava intorno di continuo senza darsi pace e con questa notizia si conclude il telegiornale di oggi il telesub il telesub ti rendi conto che a sino non succede talmente tanto un cazzo che al telegiornale ci sei tu che raccogli merda per terra oh carino che ti fa vedere l'inquadratura qualcuno nella gran palude mi ha offerto una macchina tecnica ma l'ho rifiutata cosa avrei dovuto farmene se mai ne avessimo bisogno in città ci aiuterà il capo palestra usando scaccia bruma per noi ah si beh è una bella informazione eh si scaccia bruma cosa ha a che fare con l'MT in questo punto sono proprio al centro della città backtracking lì ottimo tutti mi chiamano si no se vuoi far imparare una mostra torna con una squadra come va bene mi schiaccio tornerò shenia tornerò allora hai visitato la villa pokemon il padrone il signor gran lotto e uno che ama vantarsi dei suoi pokemon rari ok pokemon raro ormai vuol dire anche una seconda evoluzione in questo posto esatto studio e pokemon rari quelli che si trovano solo nella gran palude solo nella gran palude davvero una pozzanghera carino sì ray tracing attenzione cura totale qui è molto jazzoso comunque il gioco mia sorella raccoglie bacche tutto il giorno torna a trovarci noi le cuciniamo anche di tipi diversi mescolati assieme che delizia ho fatto escursioni in tutta sinna adoro piantare le bacche ovunque vado ah è merito tuo darò una bacca anche a te così potrai piantarla dove vuoi bacca arcade eh è un po' mi sa che ce l'ho già ah nuova invece se un pokemon ha questa bacca l'attacco super efficace di tipo folletto del nemico viene indebolito uhu ah ok l'arte dei bolli abbiamo in studio a bollo critico di bolle va bene e oggi esamineremo una capsula realizzata alla sub vediamo un po' singolare quel bollo floreale di applicato alla capsula a prima vista potrebbe sembrare messo a casaccio la rinfusa nulla di più sbagliato qui c'è del metodo dell'ingegno è tutto calcolato signori miei certo un momento fermi tutti dentro non c'è un pokemon qualunque dentro c'è uno non è vero schifoso incompetente questi mi stalkerano mi guardano raccogliere gli oggetti a terra e tu sei ancora rimasto zubat chi ha decorato questa cazzola ha ben pensato di servirsi del bollo per enfatizzare l'istante in cui il pokemon scende in campo incredibile comunque adoro la tua costanza nel leggere la tv offre sempre un insight nuovo della noia che vivono questi cittadini ho tre medaglie che cosa vende vediamo anche se ormai dopo aver raggiunto il centro commerciale ho rifatto un po' di soldini grazie a l'amuleto prendo dieci di pokeball vediamo un po' mi fa nient'altro è un cavolo 0 super repellente no perché tra l'altro c'era nel centro commerciale c'era il repellente max ah forse posso vendere qualcosa vediamo un po' tesori cavolo mt no anche perché valgono pochissimo credo ah no 1000 ok vediamo un po' tutte 1000 bacche difese anche se l'abbiamo comprate niente grazie torno a trovarci presto ragazzi mi ricordate dov'è la città delle erbette che me lo scordo sempre ok evopoli no cuoripoli evopoli ok ricordavo bene andiamoci vado a prendere ecco esatto vado a prendermi qualche curetta pausa pausa erbe pausa erbeste io non ce l'ho quel pokemon quale è l'evoluzione finale di starley ah si 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 staraptor si va bene allora gli erbettini sono dove sono forse qua a destra non ricordo mai condominio qua forse vai su vai su si 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 ok 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 in diecino vai piglio un ventello e un ventello e si va e abbiamo l'erbetta buona l'erbetta andiamo torniamo a pratopolis ti prendi un po' di polvenergia un po' di radice energia e ci siamo ah guarda ho proprio comprato un sacco perfetto bravo bravo tanto è legale qua sin allora cosa preferisci fare caro allievo vuoi andare prima alla grande palude e poi affrontare la palestra voglio la palestra mi piacciono troppo le palestre va bene quindi palestriamo allora dovremmo aver osservato tutte le case se non ho contato male credo di si e allora andiamo in palestra amico mio let's go Omar il distruttore l'impetuoso maestro mascherato distrugge qualsiasi cosa qui soprattutto le palle quando lo combatti ragazzi questa palestra sarà noiosa avverto tutti magica il capo palestra intendo cioè l'istruttore è un esperto di pokemon di tipo acqua hai proprio del fegato se cerchi di battere pokemon di tipo acqua con pokemon di tipo fuoco terra infatti non mi interessa avere quel tipo di fegato ma per tu è quello che credi ma chi l'ha mai voluto fare l'indovinello è carino nice ok qui non ci si allena solo sul fisico ma anche sullo spirito e sull'abilità con i pokemon certo che è un capo palestra che assume come partecipante alla sfida bambini di 8 anni ciambellino ma fallo evolvere siamo alla quarta palestra anche tu hai avuto questa idea ah si beh sai quello è il mio pokemon allora acqua è debole a erba elettro basta basta ma anche ha una mossa ghiaccio specifica che si chiama liofilizzazione mai sentita la impara qualche pokemon ok per esempio su gastrodon liofilizzazione fa 4x ah cavolo perché tu saresti debole a ghiaccio e con terra non lo sei perché acqua resiste ghiaccio ma nel caso di liofilizzazione no quindi è una 4x fico molto fico queste cose peccato per il concetto di data mining necessario quasi si 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 vabbè no leofilizzazione c'è scritto ok ok parvash ya ah lantern è un pokemon ti piace un sacco si lantern è molto bello per quanto purtroppo competitivamente non ha gran spazio mi spiace ah no eh perché lui ha acqua elettro giusto acqua elettro lantern lantern si ok lantern ok attento 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 non me l'aspettavo da barbwatch eh invece questo bastardo è anche te no non è più veloce stavi parlando con me non hai visto è immune ah ecco pay attention si acqua terra acqua terra come incidenti tosto ovviamente essendo una palestra molto debole a elettro eh certo ci mette magari anche il terra ogni tanto a coprire è un minimo un minimo di challenge finalmente ah l'acciaio vai vai una l'acciaio tattica in realtà è resistita però eh no ma perché lo si volevo usarla si volevi fare pochi pipì esatto pipì management pescature che schifo di palestra totalmente effortless allora ma dico io no e questa cosa la dico a microfoni aperti in entrambe le live vai ma cristo ok hai fatto sta stronzata di mettere le palestre allo stesso livello nel 2006 perché devi ripetere l'errore come mai devi perseverare nella stronzata perché loro non fanno game design in questi casi non ci pensano proprio mannaggia è un peccato sarei genuinamente curioso di scoprire quanto oggi nel ventennio superato sono numerosi i super piccoli che giocano a pokemon credo siano ancora tanti 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 però tanti ma non così tanti come prima esatto 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 secondo me comunque ci sono parecchi almeno ventenni che giocano a pokemon sì e questo potrebbe spingere un pochino un pochino almeno non sei magikarp ecco sì dai almeno quello beh io spaccherei questo merrill ragazzi tanto per cambiare eh lo so ragazzi che si possono fare nell'ordine che preferisci queste due palestre ma basta mettere il fatto che sei fatto prima l'una l'altra scala e viceversa e invece no ok sì lui è quello che hai battuto all'inizio esatto oh parlan tutti di omar come il vero distruttore spero che sia fortissimo è fortissimo il capopalestra più forte che incontrerai della storia di capopalestra nel mondo non solo pokemon ma dei videogiochi se qualcun altro se qualcun altro dovesse introdurre il concetto di capopalestra qualsiasi altra software house sarebbe comunque più forte omar aprioristicamente asuril è uno dei design più belli di pokemon è veramente delizioso sì tra l'altro è normale ah sì sì poi lo perde mangia erba minchia si sa a subseep per quasi tutta la linea praticamente che cazzo faccio su barboscio si potenzia quando quando gli fai fichissimo fichissimo e mi dispiace asuril morto non credo sia hidden subseep per ragazzi mangia erba non dovrebbe essere l'abilità nascosta esatto ragazzi omar ti guarda e sei completamente morto ti distrugge finito finì nell'anima ah lo è? è allora un merly collaiden cioè un azzurri collaiden sai che ti trovi di fronte il più grande pescatore di pokemon al mondo ah e lavori in mezzo ai bambini di otto anni e omar è l'istruttore sabacun si dissing e pesca in una piscina che prima che poco fa era vuota tra l'altro si si è proprio un imbecile cosa devo fare non me lo ricordo risible confusion non è possibile fare nulla ragazzi è finita sono bloccato per sempre ok non sono più bloccato ragazzi posso finire il gioco si si stava finendo malissimo oh hai fatto un brutto colpo si ma aveva già mezza vita quindi è stata una pardinata eh ecco esa bravo ormai hai imparato il vocabolario ah hai una scenia tu oh non necessario but still si si io sono blind ragazzi mi chiede a proposito di azuri chiedi a saido cosa succede l'assesso di quel pokemon quando evolve c'è un trivia ah perché aspetta è solo di un sai che non me lo ricordo in realtà è una roba diteci ragazzi diteci aspetta aspetta mo vado 25% 275 femmina no allora non lo ricordo non ricordo ragazzi ditecelo pure mi ricordo che c'è una roba tipo che nella seconda gen cambiava sesso però non ricordo quando come perché ok ok vediamo se qualcuno ci dà il trivia ecco si può cambiare sesso se 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 si si può cambiare sesso ah ok figo se 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 marinaio con i binocoli dentro la palestra si si ok ricordavo ricordavo questo trivia ma lontanamente quindi avete fatto bene a rinfrescarmelo cambiava sesso per quello sono andato a vedere subito le percentuali istintivamente perché tipo 25 75 ma poi diventa 50 50 e quindi non mi ricordo in che generazione era programmato male e questo poteva fargli causare un cambio di sesso io qui ragazzi anticipo il ragazzone ma solo perché tanto c'è vabbè non ti preoccupare così mi godo così mi godo la tua sfida oh me la godo tutta ora mi ara ora lo immagini momento terribile l'ho sfottuto finora se no mi distrugge niente ragazzi no sono un idiota no volevo vedere se c'era un segreto invece era semplicemente la fine ma figurati è la palestra di Omar non c'è un cazzo qua ho resettato tutto avevo finito no 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 non ho avuto non ho avuto un problema fino ad ora no no ragazzi no no vabbè vabbè troverai la strada troverai la strada pazienza che sei che sei keep it real ci sei ok allora facciamo livellare un po' onsti eccolo qua oh salve veramente mi sfida qualcuno che è il tuo lavoro in realtà hai di fronte a te il glorioso capopalestra di Pratopoli il distruttore i miei pokemon sono stati temprati da bianche acque burrascose resisteranno a qualsiasi tuo attacco e ti trascineranno a fondo va bene vinceremo noi pronto eh che carino design però bello e pure le gocce d'acqua è un wrestler si che livello 41 si si al 41 al 41 ah devo mettere la mole totoro a onsti a fare inverti io sono con gli occhietti addosso a te 27 ma ci sono gli allenatori avevano pokemon più alti eh te ne è omar benvenuto a omar oh no ha perso il suo primo pokemon assurdo comunque bravo che gli hai fatto inverti avrei potuto mettere l'amuleto però ma così ti sei tolto anche il meno uno che ti aveva fatto di prepotenza mi piace guardalo guardalo allora sai mi sa che mi sa che è terra anche lui però sì acqua terra lui di sicuro vooper non me lo ricordavo ma mamma mia ma stai sudando ti vedo sono teso un casino sono tesissimo che bella mossa oh santo scello attenzione livello 30 we are fucked o no o no o no beh comunque comunque era più veloce di me no quindi mi ha fatto paura era era 4 per 4 per 4 per si e infatti perché era ghiaccio era terra a erba va bene va bene phalanx vabbè vabbè dai è andata dai ok 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 eh no ho già parassi seme per curarmi ok ok è andata è andata è andata cielo raggio ah che peccato avrei volontato volentieri molto di più ok che paura ho perso 3k va bene Omar Omar ha salvato il suo onore togliendoti metà degli HP sì esatto torterra metà medaglie attenzione con la medaglia a quitrino puoi usare la mossa scacciabruma sì è questo un premio speciale da parte mia ho capito che cos'è scacciabruma vieni un po' acqua di sale raddoppia il danno infritto il bersaglio a cui è rimasta meno della metà dei PS utile per vincere in un baleno eh no se non l'hai shottato hai già perso ecco perché hai perso allora il fatto è che scacciabruma mi sembra che non ce l'ho tra le MT perché è una MN eh infatti e se chiamo lui ah non ce l'ho qua non si vedono qua eccole no ok non ce l'ho proprio scacciabruma va bene no no ti ricordi diceva il tipo che c'era a Pratopoli che la dà un tizio alla grande palude vero 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 ok figo nice scacciabruma sembra luce ma e quindi mi stai uscendo dalla palestrina sì sì ci riesco sì tutto dire dai dai ma in realtà c'era uno shortcut però va bene se riesci a tornare da lui è meglio fatto fatto no l'ho usato probabilmente sono stato un po' scemo allora caro il mio allievo fermo lì ok dimmi come ti anticipavo oh it is time it is time for un po' di pvp fichissimo preso preso ecco carico ora ti dico a questo punto io mi faccio la mia partita con i ragazzi sì e tu ti fai la tua ok ok ti do la password sì ok ti do la password su discord la tua ok 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 e almeno visto che la palestra non è stata particolarmente emozionante esci pure dal centro pokemon visto che non è stata particolarmente emozionante la palestra avrai la tua sfida un pochino più insomma emozionante contro un ragazzo della community vabbè dai 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 adesso ti passo la password carichissimo carichissimo ecco qua la inserisci nascondo si nascondila non la deve vedere nessuno perché ce l'ha solo una persona ah ok allora togli un secondo il mio monitorino si lo tolgo togli anche tu il mio così non la fai vedere la mia aspetta 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 sei già vista vabbè tanto era solo l'inizio poi le ho cambiate ok vai vado vado ok ah no è vero era solo l'inizio è vero è vero era solo l'inizio perché sono otto cifre era solo ok 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 aspetta salva il gioco e così combatterai la tua prima sfida che figata che figata contro un ragazzone che è stato estratto a sorte ma dai ok puoi rimettere il mio schermo ok perfetto aspetto il mio sfidante qui c'è qualcuno oh vai vai parla pure con lo sfidante quindi il workaround è stato fare una cosa pianificata ci sta davvero esatto praticamente lo sfidante dovrebbe appare ecco esatto appare una una schermata ah si ho dimenticato di dirtelo sono io il tuo sfidante ma co ma si caro ragazzone il momento dell'esame pratico oddio vieni da me cazzo che paura no no allora no ma certo ragazzone ma non potevo lasciarti nelle grinfie di Omar e noi abbiamo una squadra praticamente allo stesso livello quindi è perfetto oh mio dio no 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 puoi farcela hai un bel team ok non sei assolutamente svantaggiato hai un bel team e io tra l'altro non mi sono neanche dotato di particolari strumenti quindi mi raccomando puoi farcela e se non ce la fai non importa perché comunque è esperienza è comunque è come se fosse una palestra è il professore che cerca di insegnarmi combattendo esattamente esattamente e poi io ho anche un not fully evolved e tu invece dovresti averli tutti evoluti giusto? tranne stanchi 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 giusto giusto ah cavolo stanchi in realtà è indietro con il leveling però non ci pensavo ma perché 6 contro 6 non è 4 contro 4 ne scegliamo 3 ah ok ecco 3 ok quindi non è 2 contro 2 no 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 è in singolo ok ne scegliamo 3 out of 6 ok come si gioca in competitivo singolo ready ok ovviamente togli lo schermino ah si scusa si si aspetta aspetta fatto ok che figata eh che figata non me l'aspettavo per niente vai un minuto e mezzo scegli i tuoi tre pokemon ok 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 scelgo scelgo i miei tre pokemon scelgo i miei tre pokemon i miei tre pokemon tostissima che ansia eh ok vediamo poi che pokemon tu hai tu hai quelli lì che a sinistra ehm vediamo un po tu hai ah ma però anche tu vabbè il tuo si meditate non è evoluto al massimo eh allora eh devo cercare copertura più ampia stramba possibile però eh no no per forza per forza non posso ok basta ho deciso vediamo un po vediamo che succede ma che figo eh ho pensato anch'io a a scendere ragazzi però il fatto è che sarebbe stato un duplicato secondo me in parte quindi non si può capite cioè avrei avuto io ho io ho ho un ho un kink per provare una mossa che potrebbe anche essere una sconfitta totale ma devo provarla ho messo anche lo strumento allora oh cavolo che ansia che tensione eccoci ok 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 attenzione ma questo non è uno starly allora ok il professore usa strategie malvagie allora oh mamma mia ok culiottero culiottero accidenti ottima ottima ok ok terra è poco efficace è resistito esatto sì sì esatto esatto allora devo necessariamente prendere delle decisioni che ficcata ma è completamente inaspettato ok mi sembra un'ottima mossa anche oh oh che paura questa è una delle mie mosse preferite tra l'altro eh beh è giusto mamma mia obiettivamente qui stiamo facendo delle mosse entrambi molto intelligenti perché tu metti il counter dentro eh sì esatto 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 questo ti permette di avere un upper hand perché io ho fatto danza spada sapendo che tu avresti switchato non potevi lasciarmi torterra lì dentro eh ma allo stesso tempo adesso tu mi minacci sei un pokemon molto veloce è forte sì 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 è super efficace su di me uh perché gli rimane il buff no lo perdo ah no ah lo perdi ma avrei perso il pokemon oh e tra l'altro forza guarda guarda che bel pokemon che è Joel guarda 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 ok 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 fico 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 let's go let's go ah è ficata ah qui ci rimani yes mi provi la veleno croce oh questo è un crit ma che culo e l'avvelenamento va bene va bene va bene accidenti ah che male che fa eh eh ragazzi guardate l'allievo che è baciato dalla fortuna spero che lo rimanga questo è pokemon ok questo è importante sai do pardo no 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 ragazzi l'allievo deve fare bene deve fare bene e spero che questo che questo potere che in realtà non è la fortuna dei principianti ma degli audaci rimanga per voi sapete quale momento oh mamma mia ok ok vediamo che successe il veleno se ora entra un pokemon dopo Geridos prende comunque prepotenza in che senso ah no 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 ok devo mettere io il pokemon dentro ok allora attenzione in questo caso questo è la prima il primo insegnamento che ti do mettere hornsty non è stata una buona mossa ok ok perché mettere hornsty significa in questo momento farti scegliere la possibilità no più che altro di averti dato un cascata in faccia ok e quindi stai attento qui ti conveniva rimanere con crobat eri più veloce potevi prendere la kill mantenere la pressione con crobat che è sempre molto veloce ok insomma stai attento ok perfetto perfetto ho pensato che il veleno uccide uh banani banani grandissimo banani ok 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 questo è tosto mi fa mi fa una paura boia il banano è grosso resiste a tante robe il banano è grosso è vero attenzione oh banani ha tanti PS ed è anche sferico come mi ricordano in chat ok 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 allora bello inverti volt allora bulky fight oh cazzo oh no a cosa è debole la tua squadra che predictata terribile ok ok allora non posso non posso giusto cavolo che paura mamma mia ma tu hai lanciafiamme e geloraggio si banani questo crit è importante ok ok che figata che paura che paura ok allora ci picchia tesi tesi bello 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 attenzione attenzione qui si gioca un turno importante è vero è vero full misguardo santo dio fa qualcosa oh cazzo credo ci siamo anche 5 livelli di differenza tra i due eh mi sa che quello frega quindi ma full misguardo avrà avuto un ruolo avrà avuto un ruolo secondo te si relativamente perché sublissi conta che sublissi fare full misguardo ha senso e non ha senso perché il full misguardo abbassare una difesa già di per sé tremenda ah quindi blissi ha difesa speciale si tantissima difesa speciale pochissima difesa fisica imparo imparo ok e a questo punto mike te la porti a casa cavolo si è vero non la reggerà spennata starly vabbè dai no non ti ucciderò starly è un pokemon meme che come vedi non fa molto male ho fatto un crit più veleno prima ok si 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 ma questi pvp ad apprendimento sono incredibili bravo bravo che cosa hai imparato da questa sfida io ho imparato a non portare starly e non fare le scelte meme poi rivedrai io a un certo punto ho preso sif e poi ho detto no sif no prendiamo starly no no ma mi rivedrò tutto il fight no 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 niente bio 3 ragazzi niente bio 3 niente bio 3 ve la rifaremo la rifaremo la rifaremo sicuro bellissimo bravo mike ottimo ottimi pokemon e soprattutto ottimo trio si copriva bene ok c'era attenzione però perché qui appunto hai offerto il fianco eh si quando spostavo al gelo di nuovo al gelo avevi due deboli al gelo quindi stai molto attento poi tu hai potuto attaccare prima di essere ucciso da veleno quindi mi sono preso cascata e poi non solo ho anche permesso di scegliere il pokemon da mettere contro onsty e quindi magari predictare la sua fuga eh si si esatto esatto ok 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 fichissimo mi dicono che tra l'altro hai devastato l'economia del canale perché avevano tutti scommesso su di me eh ma ragazzi non dovete sottovalutare il ragazzo il ragazzo è forte e quando sei con un pokemon veloce e stai mettendo sotto pressione l'avversario restaci continua esatto continua perché in quel momento tu avessi lasciato crobat io non avrei fatto sostituto ah certo ah vedi perché crobat è molto forte in attacco crobat è molto forte in attacco e quindi blissy non avrei potuto metterlo con leggerezza davanti mentre ti faccio un esempio in una partita nella quale ehm i pokemon fossero stati allo stesso livello probabilmente torterra sarebbe venuto giù da geloraggio ok quindi shock si passavano circa 4-5 livelli torterra e blissy eh no era forte torterra si 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 e quindi la 4-per ti avrebbe shottato e il sostituto avrebbe dato il geloraggio anche su crobat cioè tu saresti passato da una situazione di pressure assoluta con crobat infatti quando ho visto interno crobat ho detto prendo 3-0 qui perché crobat adesso mi fa attacco 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 e prende tutti e invece appunto tu hai poi fatto quello switch e in realtà ti sei messo in una condizione in una partita tra mille virgolette normale ho capito di appunto subire in realtà non te lo meritavi perché avevi fatto una bella mossa con inverti volte dentro crobat comunque magari potevo spammare spennata complessiometro che diventava sempre più forte complessiometro si 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 spennata tra l'altro poi non è neanche una gran mossa quindi in realtà hai comunque vinto anche con dei moveset che non sono granché quindi bravo bravo grazie esperienza stupenda top ci ho detto hai vinto quindi ti meriti un premio nella palude ti farò trovare una cosa che ero indeciso se farti trovare o no ma te la super meriti oh mio dio bellissimo e questo tra l'altro ragazzi è il motivo per il quale abbiamo tolto Starly rispondendo a chi diceva di non togliere Starly due ore fa perché tu non lo sai questo è il motivo per il quale abbiamo tolto Starly stiamo mettendo wingle oh mamma mia che bello ma pure il regalo che soddisfazione top stupendo allora oh lo schermino avete ragione benvenuto alla gran palude vuoi che ti spieghi come funziona questo posto si puoi giocare al gioco Safari avrai 30 Safari Ball da usare per catturare i Pokémon il gioco finisce quando termini nel Safari Ball o dopo che hai camminato per 500 passi entra e goditi la natura incontaminata della gran palude ok prima salvo aspetta vai vai sali 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 è importante salire adesso eh ragazzi lo so che non so voglio vincerla questa Nuzloc cioè vorrei vorrei arrivarci un po' ditemi che non sto sognando no no ascolta l'unico dialogo qui era ditemi che non sto sognando ma tu sei sub quello della tv cioè i Pokémon della gran palude sembrano diversi da quelli di ieri ok interessante nella palude c'è una navetta che si chiama Velotram dovresti prenderla se vuoi inoltrarti nella palude e non fare passi quindi usa un binocolo per osservare la gran palude puoi vedere che specie di Pokémon possono essere catturate dove sono ah carino che ansia la bambina che cade nel pantano e rischia di incastrarsi ma cioè ci saranno delle guardie no no però qui puoi vedere alcuni dei Pokémon selvatici presenti in determinate aree ma che cosa è carina se ti interessano magari dici ah quello lo voglio allora memorizza anche qui il primo Pokémon non ancora catturato ti sarà permesso quindi vale come un percorso sì ma basta Pokémon un'acqua però oh tutto carino Bedoof Asuri mamma mia 300 poche dollari li hai visti dall'alto attenzione e questi sarebbero i Pokémon rari di cui vanno orgogliosi te l'ho detto un erede del fuoco mio dio lo voglio lo voglio andiamo andiamo dove vado io sono uscito sono pronto a prendere il repellente Max ok 500 passi ah ok minchia subito è così a posto scaccia bruma al volo senza senza nessuno sforzo ah permette di dissipare la nebbia bianca che avvolge il cammino esattamente ok ok gran palude area 5 e poi devo andare prima a piedi perché altrimenti mi faccio sapere dove devo eh ma devo allora questa è l'area 5 e andiamo all'area 4 mai ti seguo oh che carina l'animazione sto giocando a ricapire dove posso trovarsi il fiume che ho visto prima allora repellente Max let's go hanno aspettato strumenti vari eccoci qua ah perfetto allora qui e su ah oddio ha ragione la bimba che paura si si cade che paura vediamo un po' vediamo cosa ho trovato non è il bupa che è nuovo per me quindi è la mia cattura uh ok le musiche sono deliziosi si ok area 2 ok in area 2 no pezzo di cazzo no ok aspetta devo andare a cercare dove è sto fiume non andare via dall'area 2 ok dove è il fiume il laghetto super repellente ok se io lo voglio anche usare che è un controsenso però megaball eh mi sa che mi sono spostato dalla 2 si è una cattura persa ragazzi mi sono perso la ok vado in area 2 aspetta ah ok ancora non sei in area 2 no no ora ci sono ok allora c'è un oggetto da trovare che sto cercando anch'io perché non mi sto ricordando dove cazzo è perché è nascosto ovviamente ah no ma l'area 2 destra ok si a destra ah chat mo lo cerco eh mo lo cerco eh amico mio ero sicuro che fosse qui da qualche parte io avrò sicuramente quasi finito i i passi i passi non riesco a sgamare dove sono devo trovare quel fiumetto in cui c'è staravia pokeball qui no ecco ah il tempo è scaduto oh no rientra rientra si si no forse ho trovato tanto dovrò rientrare anch'io forse ho trovato c'è uno strumento che dobbiamo trovare assolutamente ah lo sgamiamo assolutamente maledetto bastardo ma come lo devo usare repellente devo usare repellente devo avvicinarmi a quel flaghetto dove ho visto col cannocchiare che c'è staravia senza repellente potrei incontrare altre creature non va bene e alla chat ricordo che mi leggete in ritardo vi leggo in ritardo quindi cioè è difficile seguire le vostre indicazioni accidenti a poche perché se no dobbiamo usare ricerca strumenti ma non ho tanta voglia allora vediamo un po' vai in area 2 mi raccomando aspetta 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 in area 2 a destra di questo sono sicuro poi ok aspetta ho trovato il posto di staravia aspetta ah oh vai 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 devo far finire il repellente ti prego no lo troveremo ragazzi ne sono sicuro ce la farò ce la farò ah ho trovato ah niente ok ho tutto sei mio però ah è giusto c'è il c'è cibo allora ti spiego come funziona se gli dai il cibo restano no se gli dai il cibo sono più facilmente catturabili ma possono andare via perché hanno mangiato e sono a posto se gli tiri il fango si incazzano e rimangono ma ok sono appunto incazzati e quindi sfondano anche le ball ce l'ho fatta ragazzi e questa questo questo strumento è sempre molto no ragazzi se non è sbagliato è così versione 47 si è così no non è l'esatto posto ragazzi lo dice il tizio hanno cambiato non è al contrario è così vi prego abbiamo già avuto questa discussione ah mi sono dimenticato di dargli un nome poi io lo diamo al tizio che ti fa cambiare è così ragazzi col cibo rimangono e cioè rimangono vanno via ma sono più catturabili c'è un tale qui in NPC qua che lo dice comunque allora adesso vado alla zona 2 quando sei in area 2 me lo dici ok ci sono ok allora vai esattamente dove sono io sopra l'ombrellina esatto ok ci sono eh guarda rapidissimo un bel merrill o hanno sbagliato in italiano ragazzi a fare la traduzione come vi dico io ok vai poco più sopra sopra e che cavolo pure l'evoluzione c'era che sfiga e ragazzi lo so che sulla wiki dice il contrario però mi fido più del gioco vai su ah oh ok ok ecco cosa c'era scritto c'è del testo inciso cavolo la strafiele tra l'altro utile per Joel se gli volessi dare il boost cavolo ok il pokemon appena nato lo potrei attingere questa è tricky questa è molto tricky per me può significare solo una cosa cioè il pokemon appena nato potrei attingere al potere delle lastre e te la leggo anche in inglese sì perché questa è cambiata molto ah ok allora arrivo subito con le lastre che ho qui pronte eccole qua allora the powers of plates are shared among pokemon molto più chiara direi ma è completamente diversa è era così anche in italiano in realtà qui hanno fatto un po' di poesia poi ti spiego perché ma è una poesia che cambia completamente l'interpretazione perché quella che ho letto io il pokemon appena nato poter attingere al potere delle lastre si lega a livello proprio di sintassi delle descrizioni con l'uovo nato nel nulla che ha fatto nascere Archeos quindi il pokemon appena nato è quello però in teoria non tornerebbe questa cosa perché Archeos ha creato l'universo o comunque c'era prima dell'universo però se fosse stato eh sì ma se fosse stato tradotto in questo modo dovevi trovare una quadra e la quadra era semplice ossia Archeos nascendo ha causato quello che è stato descritto prima cioè è stata la nascita di Archeos come Big Bang a creare il tutto e quindi a far sì che poi le lastre fossero già presenti una volta che lui fosse nato quindi i giganti sono stati sconfitti dalla nascita di Archeos poi è vero c'era scritto che lui era l'unica cosa a respirare prima di però non è detto che i giganti non fossero una conseguenza auto sconfitta della nascita del pokemon però non conta niente perché in inglese è un'altra cosa quindi il potere delle lastre è condiviso da tutti i pokemon è quello e sì guarda te la rileggo the power of plates are shared among pokemon cioè il potere delle lastre è condiviso fra tutti i pokemon e questo diventa un interessante punto e chiodo sulla bara della discussione non bara del podio del nostro plate speculativo sul discorso che le lastre sono l'effettivo potere elementale prima assente dei pokemon perché se il potere delle lastre è condiviso tra i pokemon e le lastre hanno il potere di potenziare gli elementi bravissima evidentemente questi elementi sono la particolarità condivisa da queste creature tra l'altro questa è una delle lastre e questa è una cosa in realtà molto buona secondo me comunque meno su cui speculare perché è qualcosa che fortunatamente grazie alle discussioni precedenti crea una silhouette e poteva non essere così questo conferma la tua supposizione che coincide con la mia prima ancora di fare questa serie secondo la quale il potere dei giganti sconfitti che imbeve le lastre è in realtà il potere elementale senza la sconfitta dei giganti non sarebbero esistiti i tipi e i pokemon esistono nel modo in cui li conosciamo perché i giganti sono stati sconfitti altrimenti non avrebbero i typing sarebbero probabilmente animali sai c'è un libro della lord di pokemon ufficiale che in realtà in gran parte è stato retconnato quindi è vera e non è vera questa affermazione che sto per dirti però esce dalla bocca di game freak viene detto che growlith diventa tale quindi pokemon perché era un cane all'inizio e però vivendo in un ambiente vulcanico ovvero alle isole cannella di canto a un certo punto è divenuto growlith è divenuto un cane sputafuoco un cane che assorbe il calore che un tempo lo faceva soffrire e lo tramuta in appunto potere quindi diviene pokemon ora chiaramente questa coincidenza animali pokemon è stata eliminata poi perché dal secondo titolo in poi non si è mai più parlato di animali animali non esistono esatto era la domanda che volevo farti infatti non esistono gli animali però magari potremmo dire che sarebbero esistiti se i giganti non fossero stati sconfitti ti piace come idea cioè in una realtà parallela fammi pensare se i giganti non fossero stati sconfitti sarebbero esistiti gli animali sì secondo me sì sì perché sì perché non hanno avuto cioè sì semplicemente perché noi effettivamente sì è perfetto perché noi viviamo in un mondo senza lastre gli animali e molte creature pokemon sarebbero state altro senza questo potere ma sono diventati pokemon che però e qui è anche la chiave di tutto per il mondo pokemon non per quanto speciali siano comunque sono animali esattamente e quindi sono i loro animali infatti che io ricordi correggimi se anche questa roba è stata retconnata ma non credo cioè mi pare che il team rocket mangiasse code di slowpoke i magicarp vengono cucinati certo no no quello non è retconnato semplicemente si è deciso di non parlarne più però sì nell'ultima intervista che hanno fatto a Omori che è un altro dei lead diciamo project director di pokemon ha detto no comment proprio tipo ma le salsicce che si cucinano insieme al carry a lola di che soldi a perdonatemi a galar sono fatte di pokemon e loro no comment quindi sì sono fatte di pokemon ma the pokemon company gli dice eh non si dice che i pokemon vengono mangiati quindi sì ma in realtà tante descrizioni del pokedex parlano di pokemon che vengono mangiati che sono prelibatezze magari in determinate regioni se in descrizione parli di preda e predatore santo dio comunque cioè esatto però ecco mi torna anche a me il concetto di se Arceus non avesse sconfitto i giganti esatto quindi se Arceus avesse magari creato l'universo scendendo a patti con i giganti sì sarebbero nati gli animali sarebbero nati gli animali esattamente i maiali i cani i gatti e non esatto il mondo pokemon il che peraltro secondo me aumenta il discorso che possiamo fare cioè il controllo elementale ce l'hanno solo gli umani non ce l'hanno i pokemon perdona perdonami il contrario ce l'hanno solo i pokemon gli esseri umani perché gli umani invece non hanno il potere delle lastre il potere delle lastre viene condiviso solamente attraverso i pokemon con i pokemon di conseguenza come avevamo già detto l'altra volta forse all'uomo è stata data l'intelligenza il potere di prendere le scelte di farti mettere crobat davanti a blissi e bastermi quella è l'intelligenza dell'essere umano mentre a crobat la veleno croce e si esatto ma la domanda successiva che comincia a diventare super cazzola ma che stiamo a fare qua è se il distingo che è appena fatto è stato un desiderio o meno cioè se abbiamo tre creature che hanno unito spazio e tempo ci sarà stata una di queste entità primordiali che ha deciso l'elemento questi il senno poi non è vero perché Pikachu è senziente completamente cioè comunque i Pokémon hanno i sentimenti emozioni rapporti dialoghi poi bisogna vedere però comunque non hanno una società non hanno capacità strategica esatto esatto sono subordinati anche per loro volontà però vabbè il su coè potrebbe essere comunque anche questa parte di un disegno e l'unica cosa che ancora mi lascia interdetto e a questo punto se c'è cioè è vero che sono quattro coriandoli in quindici anni però adesso capisco Archeus come leggende perché sta emozionando eh beh certo Dio santo è particolare la storia ci manca qualche lastra diciamo mettiamola così c'è un dettaglio che mi manca perché tu hai parlato e sono perfettamente d'accordo è proprio esattamente per me lineare questa è una delle lastre più magari meno emozionanti ma più belle aver trovato perché ti fa capire aspetta aspetta ma allora non sono le frasi di quattro baci perugina cioè qualcuno aveva perlomeno in mente un'idea ed è molto piacevole il punto è gli animali però torno a parlarti sempre di quel pokemon citato qualche live fa che cosa facciamo con cling clang e pokemon bronzor nel senso no rido perché bronzor è speciale per me ok 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 cioè sono definibili semplicemente conseguenze escludendo il design la varietà le ispirazioni mitologiche spiritiche da anche come si chiama l'altro il competitor di pokemon recente di yokai ah yokai watch ok ok yokai watch eccetera escludendo quello sono entità che però non hanno organi classici non credo che se tu distruggi un cling clang esce fuori sangue hai mai sentito parlare di clay doll si è quel pokemon con le tre si è tipo una chianda si una cosa una cosa del genere vogliamo divertirci ferdi riesci a prepararmi al volo un'immagine come quella di arceus ma per clay doll oh la mando anche al ragazzone ok e a questo punto stiamo parlando di questa cosa che è molto interessante perché il ragazzone è sveglio e quindi fa le domande giuste e voglio dargli soddisfazione bravo è un'ottima domanda quella che ti poni cioè esistono pokemon non generati da dio perché questo è quello che stai dicendo si cioè esistono pokemon oggetti che sono nati in quanto repliche di oggetti e non il contrario dico non il contrario perché vanillite il gelato è nato sicuramente prima del gelato e te lo dico perché secondo le descrizioni del pokédex e qui magari ti può aiutare anche con una cosa questa te la dico senza fartela vedere golurk non ne parliamo oggi ragazzi troppe cose non vi preoccupate parliamo di clay doll però perché clay doll è il momento è un ha detto una cosa interessante quindi agganciamolo clay doll ci sarà utile anche per leggende pokemon arceus fare questo discorso dicevo vanillite viene al mondo per il desiderio di una stalattite di non sciogliersi ai raggi del sole e quindi torna ancora una volta questo desiderio creativo per i pokemon che tu stesso hai citato molte volte perché ti è rimasto impresso leggendo quella lastra di questi tre pokemon misteriosi o tre esseri misteriosi che esprimendo un desiderio intrecciano spazio e tempo esattamente come gli altri due figli di arceus esprimendo un desiderio creano spazio e tempo quindi in realtà addirittura il desiderio nel mondo pokemon per un motivo particolare di cui parleremo a fine run sembra anche essere in grado di partorire le creature cioè vanillite nasce da una stalattite che pensa no non voglio sciogliermi al sole e allora prende vita e diventa pokemon e quindi probabilmente assume una forza glaciale tale da non sciogliersi più al sole nasce lui e poi probabilmente il gelato viene ispirato a a vanillite quindi si può dire assolutamente che vanillite eredita questo potere delle lastre il potere del tipo ghiaccio nel momento in cui viene al mondo però la tua domanda è quindi clean clang invece che cos'è un ingranaggio che vuole non oliato che vuole oliarti a tal punto da diventare pokemon pare di no pare di no ma ci sono alcuni pokemon speciali che invece hanno storie particolari e dimostrano che non sempre dio ha creato direttamente questo questo mondo o questi pokemon e che non tutti i pokemon nascono come animali che si evolvono perché assumono e assimilano questo potere porigone digitale bravissimo porigone digitale per esempio quindi mewtwo è stato creato da fuji quindi è un altro pokemon diciamo che in questo momento viene a divenire pokemon perché nasce in un mondo che è già fecondo per i pokemon potremmo dire quasi che in realtà non possono più nascere animali cioè se crei un animale è un pokemon perché appena viene al mondo assorbe un elemento adesso a fine e quindi bella però a questo punto vai 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 io adesso ho un pallino che è molto bello avere devo dire la verità che adesso ti capisco molto molto perché è bella la prospettiva di avere scritto di più a riguardo nel senso fare dei videogiochi un pochino anche lord driven in pokemon è una bella prospettiva perché non si sta parlando di qualcosa che risulta complesso o contorto andare a scrivere o produrre semplicemente serve la volontà di farlo il coraggio probabilmente perché quanto sappiamo tu più di me ma io cavolo se l'ho visto in questi anni si vede che pokemon cerca sempre disperatamente continuamente di essere misterioso e lei vi e lei vi mamma mia quindi e quindi vuole non avere una lord perché poi si scopre come funziona nel mondo pokemon invece di essere tutto perché per loro il non sapere è magia è la bellezza e ci sta però queste scintille sono veramente di un bel fuoco e ti dico quello che stavo suggerendo prima che però ho discusso con questa premessa introdotto così perché è difficile immaginare che venga preso mai in considerazione ed è un gran peccato però mi stuzzica molto nei confronti del team galassia adesso sono molto più interessato nei confronti del team galassia tanto di più per un dettaglio vero abbiamo già fatto il distinguo strategia intelligenza speciale plus bla 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 però effettivamente i pokemon hanno una cosa totalmente chiamiamola innaturale ed è l'evoluzione e l'essere umano non ce l'ha cioè il bambino non è il baby dell'umano gli esseri umani non brillano di luce e crescono hanno un processo naturale di invecchiamento nascita e morte assolutamente corretto e quindi finalmente cioè qualcuno si chiede che cos'è davvero l'evoluzione anche perché adesso permettimi di dire una cazzata però non è mai una cazzata stiamo parlando di cose fighe allora il gigamax ok ok perdonami perdonami non ce lo non resisto perché il gigamax non potrebbe essere una sorta di forzato situazionale strano temporaneo riavvicinarsi dei pokemon ai giganti cioè non perché è hai mosse nuove super elementali e e diventano cioè cambiano forma l'unica cosa che mi toglie un po' la speranza di aver detto qualcosa di non lo so c'è quel pokemon orribile brutto come la merda in gigamax scusate la vulgarità ragazzi come si chiama garbodor allora il pattume no no non sto parlando di un pokemon oggettivamente brutto sto parlando di un pokemon che trovo dal design offensivo quello che diventa il palazzo duraludon duraludon ecco questo mi toglie un po' da fantasia perché però potrebbe essere però magari è influenzato dall'ambiente dalla sinergia con gli umani chissà però ecco allora questa cosa dei giganti è molto meno buttata lì di quanto non pensassi ecco allora allora fermati ok premesso che vabbè te lo dico qui la chatta è esplosa insieme al mio cazzo perché quello che tu hai detto è la sintesi dei miei video più lunghi su pokemon cioè tu hai parlato sta cosa ai pokemon che si avvicinano ai giganti che è tipo no devo rivedere ok poi te la rivedrai esatto la reaction e c'è stato proprio esatto un orgasmo di community non avrei saputo definirlo meglio bravo pulcinski perché sì perché è logico noi sappiamo che i pokemon si avvicinano tra mille virgolette giganti già di per sé assorbendone i tipi ma abbiamo anche detto negli scorsi episodi che in realtà la gigamax avviene perché cade una desiostella dal cielo e la desiostella è fatta dello stesso materiale del meteorite dentro il quale c'è eternatus che sembrerebbe essere un pezzo di qualcosa di più grande che sta in cielo quindi per proprietà transitiva hai ragione probabilmente quando i pokemon hanno queste trasformazioni pazze parliamo della gigamax perché tu altre non le conosci ok però magari ci arriveremo un giorno e beh quelle trasformazioni lì sembrerebbero avvicinare i pokemon agli esseri che in parte li hanno creati indirettamente perché è vero che li ha creati Archeos o meglio Archeos sembrerebbe aver creato solo l'universo non c'è scritto in queste lastre che ha creato i pokemon quindi lui magari ha creato l'universo con queste leggi e queste leggi hanno dato vita a queste creature però appunto quando arrivano queste trasformazioni e nel caso della gigamax è possibile solo perché frana della merda dal cielo e non sappiamo come quando e perché i pokemon raggiungono una forma biologicamente non prevista la gigamax non è naturale hai ragione è corretto non è naturale la gigamax non dovrebbe esistere se non cadessero le meteore dal cielo le stesse che hanno portato Eternatus sotto terra la gigamax non farebbe parte della creazione di dio però Eternatus non influenza i pokemon vicini a lui in nessun modo cioè non ha un effetto di trama non viene discusso vabbè sì in realtà proprio le particelle che lui emana e che vengono assorbite dalla terra di galar sono il motivo per il quale la dynamax è possibile è tipo una reazione cioè questo proprio te lo posso rivelare perché è canon non è roba mia c'è proprio canon ok 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 la gigamax devi immaginartela come un fiammifero che accende il falò ok parliamo di falò io e te ovviamente quindi il fiammifero è il polsino dynamax che al suo interno ha una desiostella levigata quindi una meteora che viene dal cielo e invece la legna sono le particelle galar che sono emesse dalla terra di galar perché c'è eternatus c'è stato seppellito eternatus per millenni e quindi le sue particelle hanno si sono come dire allontanate dal suo corpo non sappiamo bene come fisicamente sia successo però di base sono in circolo a galar e tra l'altro prima o poi finiranno proprio perché non sono naturali è il motivo per il quale rose vuole evocarlo per fare in modo che rimanga l'energia infinita galar lui è un magnate vive di energia vuole far vivere la sua nazione di energia ed è il motivo per il quale eternatus vuole tirarlo fuori e catturarlo affinché ne produca altra però stavolta è un bel antagonista mi piace un sacco si purtroppo spiegato frettolosamente quindi secondo me alcune sue cose non sono state capite ma per colpa loro perché serviva ultra spada e ultra scudo è bravo ma serviva anche proprio un sacco di dialoghi in meno di tanti personaggi del cazzo che non dicevano niente però vabbè pace ecco e ci ho detto quindi hai ragione il pokemon assorbendo quell'energia dimostra a di essere compatibile molto con il potere dei giganti o meglio di almeno un gigante perché di base oltre a assorbirne i tipi e questo già i canon sembrerebbe assorbirne anche i poteri extra e questa è una nostra non dico neanche interpretazione ma deduzione in base ai dati che abbiamo ti aggiungo un dettaglio ma non voglio andare oltre perché altrimenti stiamo qua nove ore no ma io quando ho letto la descrizione della lastra ho pensato vabbè 40 secondi e si va avanti no e invece è stato un continuo questo episodio è bellissimo questa serata è incredibile ti ringrazio e lo penso anch'io io non l'avrei detto niente io ho lasciato che tu facessi tutto ma hai fatto un appunto devastante e quindi mi fai partire in quarta esattamente come ti sei partito spiegandomi Priscilla capito certo certo devo allora ti dico che rimane un'interpretazione e anzi non arrivo neanche all'interpretazione però ti posso anche dire che questi giganti sono stati sconfitti e questo lo sappiamo quindi hanno combattuto è stato un tuo commento ti ricordi hai detto sconfitti non distrutti quindi hanno reagito non volevano morire esatto sì sì parlando di energia Dynamax e Gigamax ti ricordo che è ufficiale il fatto che la Dynamax e la Gigamax non siano benefiche per il Pokémon l'uomo poi le ha ristrette ad un utilizzo negli stadi spettacolarizzato bravissimo però le leggende di Galar raccontano della Dynamax che fa impazzire i Pokémon e li fa radere al suolo in Tirelande sì esatto esatto e quindi devono arrivare i lupi a calmarli perché altrimenti quei Pokémon avrebbero distrutto completamente tutta la regione in più non so se tu hai giocato il post game di Sword and Shield il momento in cui devi catturare i lupi sì certo ci sono quei due coglioni che mannaggia a chi ha avuto l'idea di fargli quei capelli perché in realtà sono due personaggi importanti però sono impossibili da prendere sul serio non so se ti ricordi uno dei due proprio droga uno dei due lupi con le particelle di Eternatus me lo ricordo me lo ricordo sì sì sul tetto bravissimo bravissimo quindi insomma questa energia che cade dal cielo dai corpi forse di questi esseri non è che sia poi così tanto buona eh no infatti ed è particolare che venga da degli esseri sconfitti che quindi di base sono stati un po' come dire privati dello spotlight della creazione del mondo cioè loro sono serviti come benzina per il piano di Arceus e eventualmente di qualcun altro perché ti ricordo che la creazione è un atto corale lo abbiamo letto con gli unknown quindi magari non era il solo ma queste sono ovviamente pure supposizioni no però tanta roba ok ok quindi capito cioè è strano il fatto che come dici tu i pokemon si avvicinano ai giganti ma allo stesso tempo questa energia quando va oltre le lastre cioè oltre quello che Arceus ha imprigionato dentro questi cristalli non è così tanto sotto controllo anzi se non ci mette il logos l'uomo diventa una roba devastante questi pokemon impazziscono proprio perché è innaturale ti passo claydol e chiudiamo questo momento pazzo incredibile che non pensavo neanche sarebbe arrivato oggi ma è arrivato quindi poggers allora ecco qua claydol 1 e claydol 2 te le passo entrambe e tanto la ricordo a memoria ti darò anche quella inglese qualora non ci fosse perché credo sia stata ecco appunto mandata su in italiano ma in realtà qui l'inglese è più simile al giapponese in questo caso allora te le sto passando su discord eccole qua si chiamano claydol 1 e claydol 2 ok adesso le aggiungo le salvo così mamma mia che serata ragazzi ho il calore proprio in corpo mamma mia togli un secondo il monitor che devo quello schermino sì 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 tolgo tutto aspetta tolgo subito ecco qua tolto vai perfetto allora senza fare il 321 tanto non è una roba la metti e quando ce l'hai claydol 1 ne parliamo perfetto allora download claydol 1 poi download claydol 2 no vabbè tranquillo Ferdi non ti preoccupare ok poi vediamo un po' se ho le due immagini sì sì ce l'ho perfetto metto giù allora poi aspetta tra adesso ti avviso ok little 1 non guardo little 2 ok puoi faccio parire sono diversi ok perfetto vai puoi rimetti pure lo schermo ah sì certo ecco qua allora nella 1 che hai a schermo adesso giusto yes leggiamo prego leggi leggi pokemon nato da un'antica statuetta d'argilla portata in vita da misteriose radiazioni ci picchia addirittura in inglese è mysterious ray of light quindi radiazioni è stata aggiunta un po' dalla traduzione italiana ma in realtà c'è un raggio misterioso che pare aver dato vita a queste bambole ah quindi non è come non è causata dall'uomo ok no no non si sa da che cosa è causata ma sta cosa aspetta è molto più grande cioè questo è un altro pokemon che ha causato un'ora di video ma stai ma ci mancherebbe altro guarda un'antica statuetta il fatto che sia un'antica statuetta potrebbe significare che purtroppo a questo punto molto troppo prima di leggende archeos c'era un culto umano che forse ne sapeva qualcosa in più perché se un'antica statuetta aveva tra l'altro a questo punto sarebbe bello poter vedere l'antica statuetta perché cioè portata in vita significa forse ma scusa non potrebbe essere un gigantino questo no non è detto perché non potevano vedere un gigantino no però qualunque sia questo mysterious ray of light ha un potere enorme ha un potere enorme dare vita farli diventare pokemon esatto i simboli sul busto potrebbero sembrare quasi annonici è vero è vero ti dirò che no ma bomba cioè praticamente un'antica statuetta d'argilla quindi fatta dall'uomo per forza di cose proprio in nome della distinzione che avevo fatto prima portata in vita da misteriosi raggi di luce che però non sono mai più capitati sì e no nel senso che ne riparleremo non sono gli unici pokemon creati con questi raggi misteriosi quindi sono affect ok cioè sfondiamo la quarta parete va bene lo stronzo che in game freak scrive le descrizioni si diverte a creare una storia nella storia chiaro parliamoci chiaro chi fa il progetto non ha voglia di raccontare queste storie immaginalo come se miazaki non facesse loro intenzionale ma lo stronzo che scrive gli anelli sì 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 in pokemon c'è più o meno questa situazione cioè tu vedi le storie principali che raccontano una storia autoconclusiva ma le descrizioni invece che raccontano una storia molto più ampia che addirittura va avanti di generazione in generazione una mia rubrica che si chiama come una città importante del mondo pokemon cioè memoride è proprio un mettere in ordine tutte queste descrizioni raccontando tutte le storie ti dico una cosa perché tu ultimamente è una cosa che ho adorato per quanto mi lascia in sospeso in modo più assoluto e questa cosa farà lo stesso durante la normale chiamiamola normale veteran run non inversa mi dici questa cosa questa creatura il prince demon ne riparleremo della loro unione per costruire il corpo dell'originale principe beh sappi questo questo discorso della luce che può portare vita o un potere molto particolare non utilizzo altri termini perché sarebbe siamo troppo bestie in queste cose poi faresti il castello di carte troppo troppo solido ne riparleremo in bloodborne oddio oddio ma che goduria ma ragazzi ma cosa sta succedendo ma che live è esatto no mar di merda è l'unico neo di questa live allora allora ok metto la seconda metti la seconda però ecco completo la tua frase vai lui magari non è un gigantino no infatti si è un gigantino il che significa che immaginato no più che altro la dynamax è un potere che fa diventare i pokemon giganti boh magari esiste un gigante che ha il potere di rendere vivi gli oggetti voglio la gigamax di questo pokemon cioè il raggio misterioso che rende gli oggetti pokemon quindi organici ma anche inorganici è una roba devastante sembra un potere divino sì sì ma certo certo ovviamente sembra proprio un potere divino non saprei come altro descriverlo comunque vai con la seconda immagine leggi pure ok allora aspetta che la rimpicciolisco claydol rimane ancora un mistero comparvi da una statua d'argilla creata da un popolo antico ventimila ventimila sai cosa è successo ventimila anni fa canonicamente nel mondo pokemon eternatus è caduto sulla terra no serio sì cioè questa la meteora che contiene eternatus cioè quello che secondo noi è un pezzo di un dio caotico di queste robe che sono nel cielo coincide con il momento in cui questo raggio dà vita ai claydol avanzo una piccola pretesa che si espanderà negli anni a venire facendo più giochi pokemon insieme sembrerebbe quasi che in realtà ventimila anni fa siano cadute tante robe eh ma cioè vai vai basta fare sequel di pokemon facciamo un spriquel e infatti hanno fatto leggende pokemon archaos capisci quanto sono contento esatto ma deve deve essere un filone che va a ritroso super a ritroso cioè sarebbe in realtà tro è peccato troppo difficile ovviamente il brand dovrebbe trasformarsi tanto però se davvero in leggende si stanno costruendo le prime pokeball se vai dietro come fai a gestire l'allenamento delle creature come potevano essere gestite queste cose li colpivano con i raggi con le pistole mio claydol ti ho dato la vita adesso è vero hai ragione hai ragione con le pokeball si è voluto praticamente mettere una fine all'andare ancora indietro sembrerebbe però non so in realtà si potrebbe fare un gioco senza pokeball una cattura attraverso un altro strumento che non è una pokeball ma è qualcos'altro un legame diverso bravo anche alla shimmy gami tensei quindi l'amicizia con il pokemon alla zona safari come qui invece di raggiungerla pokeball gli devi dare il cibo lui magari sceglie se rimanere o no hai varie azioni proprio come shimmy gami tensei però per dire insomma ce ne sono tanti di modi a parte le fruste che mi citano in chat perché era la prima idea di pokemon le fruste in capsule monster poi le hanno tolte complimenti sì sì c'erano le fruste però ecco il passato di pokemon è pieno di questa roba cioè se tu ti leggessi le descrizioni del pokedex di tanti pokemon particolari troveresti le robe che dici ma perché non state parlando di sta roba invece di parlare della storia del cazzo di owen fuoco contro acqua terra contro mare però purtroppo non lo fanno per ora ti ripeto forse c'è tanta gente interessata a voler raccontare queste storie e un po' meno producer a seguire questa linea beh tu mi hai raccontato ci hai fatto anche un video sopra ne parlavamo in privato durante la tua produzione di quello che credo fosse lo sceneggiatore originale di Mewtwo nel senso l'autore che aveva voglia di creare ma gli higher ups no nonostante nonostante lo hanno derubato dell'idea di Mewtwo nella capsula usata da qualsiasi altra parte giochi inclusi in realtà Mewtwo non è in nessuna cazzo di capsula Game Freak non aveva la più pallida idea di come fosse stato creato Mewtwo nella villa Pokémon di Rosso e Blu non c'è niente è una mappa di merda è terribile e a parte un diario tra l'altro retconnato a loro stessi e però esatto sì Takeshi Shudo era un autore particolare e venne un pochino messo a tacere dopo un po' di anni purtroppo e sì credo che ci siano tanti piccoli Takeshi Shudo dentro The Pokémon Company vengono relegati a queste descrizioni ma ci siamo noi e a me piace pensare quantomeno se non di esplicitare una storia che non esiste perché nei giochi principali non esiste esplicitare una storia che qualcuno ha voluto scrivere quel qualcuno oggi è contento di noi che stiamo parlando di queste descrizioni su una storia che sembra esserci perché ti assicuro ne riparleremo c'è una linea che unisce varie specie a questa roba qui dei Pokémon che prendono vita ti dico un'ultima cosa ma io due ma la la seconda te la anticipo ora è dalla chat che danno un trivia carino fun fact nell'anime Claydol viene mostrato per la prima volta con un episodio dal titolo il gigante perché viene risvegliata un esemplare gigantesca della della statuetta vedi fantastico mi piace mi piace che avvenga questa cosa però pensa ora l'anime non è canonico no lo so lo so qualcuno magari esatto esatto ma adesso ti faccio una domandina per mia mancanza di memoria perché l'ho giocato l'ho scoppiato ma mi catturo talmente poco la storia che proprio no me ne allontanai dai ricordi subito però visto che si parlava di 20.000 anni fa c'era un pokemon tipo dirò cose ridicole però un pokemon tipo un fiorellino in XY c'è un c'è quel c'è quel personaggio che dice it's been 3.000 years no yes 3.000 anni cosa cioè non c'era lì non si parlava di raggi di luce di cose strane flouette ok sì e si parlava di raggi di luce di cose strane ma non inizieremo questo discorso va bene va bene va bene nonostante sì sono proprio 3.000 anni fa è successo qualcosa nel mondo di pokemon in realtà è successa un botto di roba anche 20.000 e 3.000 anni fa sono i numeri preferiti di game freak e gli unici che conoscono probabilmente ok e quindi sì è successa un botto di roba 3.000 anni fa e ne parleremo ma another time però ci facciamo bastare tra mille virgolette questo ora minchia siamo a tre ore e mezza ok io ti dico questo avevo in mente un finale eh ma non ora mi spiego avevo in mente un finale no no aspetta dimmi di me il finale di questa live sarebbe stato completismo cioè un backtracking da fare tra mille virgolette c'è più che backtracking c'è da fare due percorsi nuovi che sono non dico brevi però comunque non lunghi che non hanno un cazzo dentro a parte una cosa ma no vuoi darmelo come compito per casa? ok no 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 lo facciamo insieme io voglio che in questa serie ci sia tutto quello che il gioco ha da offrire dai 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 ma no questa live merita merita la fine che che dico io quindi adesso io faccio scadere questo ok 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 poi tra l'altro la lastra del vereno la droga violugo eh sì giusto giusto ci sta ci sta e io parlerei con il tizio del team galassia vado oh finalmente è arrivato il pacco dal magazzino di rupepole ora entro in gioco io prossima destinazione il lago oh ah nella gran paludi potrebbero esserci troppi problemi ah sì è per fare cosa stai spalle d'alta voce stavi orgogliando vero stavo solo parlando tra me e me se non fosse di fretta ti daria una bella lezione con la mia squadra di pokemon ma devo raggiungere il lago il più presto ritieni di fortunato dimenticavo non provare a seguirmi ok aspetta che adesso chiamo la mia bicicletta e lo investo allora ah 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 no ho perso niente mi è sfuggito sei proprio insistente se i nostri piani vanno in porto si avvererà il sogno del nostro capo e verrà creato il suo mondo ideale in kingdom hearts per questo non sto qui a perdere tempo con una nullità come te ti avverto a non provare a seguirmi ah è riuscito a schivarmi Barry è tornato questo sicuro è entrare nel team galassia allora ops allora non ci scontriamo proprio tutte le volte che ci vediamo ma come no ti sei scontri ah ti sei ops si è fermato si è fermato in tempo come va la vita sab stai allenando i tuoi pokemon metterò la prova a te e la tua squadra per vedere quanto siete diventati forti è chiaramente in combutta ha permesso al team gas di fuggire esatto proprio un coglione stupido Barry di merda grazie LCA per questo sfondo splendido che cosa succede perché sono in mezzo al nulla con le stelle lo staggista aveva il giorno libero quel giorno ma è un potrebbe essere un enorme singolo poligono con una texture spalmata va bene aveva il giorno libero ti dico ok Starly ha ancora Starly io ho le triple evoluzioni e lui ha Starly sento va bene andiamo vai spennata spennata in power up si ha uno Starly al 26 dopo puoi aprire la mappa e vedere a quale lago è diretto non so eh no ma infatti ti ricordi è probabilmente è quello vigore eh sì quello che sta qua vicino esatto esatto ah e ti do una teoria che ha elaborato la chat durante la live ah no l'ha elaborata Chiara non la chat Chiara ok durante la live di Diamante Lucente per la Splendente la serie che abbiamo fatto prima di questa ok di questa veteran e lei ha detto che siccome Barry corre sempre e per correre bisogna premere il tasto B lui preme sempre il tasto B e quindi annulla le evoluzioni ah 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 per me canon è assoluto ma stupendo non è possibile che non sia così ok però Barry ha appena vinto il premio di super smart deco ball perché ha Monferno con le fiammate blu quando appare è molto smart effettivamente ha un talento però sempre è shottato gli rimani mamma mia Barry io smetterei di essere allenatore posso in te e mo che fai eh si è forte e bella allenata anzi adesso con il quarto spennata l'attack power è maggiore ed è comunque super efficace mi dispiace addio boom ha un talento non la lotta esatto eh vabbè quanti soldi hai spero tanti perché saranno raddoppiati ah perfetto eh si devo ammettere che sei un pochino più forte dell'altra volta mi hai colto impreparato ed è per questo che mi hai battuto senti un po' cosa aveva da blaterare il tipo del team galassia non so cosa stia combinando ma sarebbe meglio che lo si dai un cazzotto dai un cazzotto dai un cazzotto adesso stupido coglione allora ok dov'è questo bastardo esatto ah l'energia dell'impianto turbine ci è servita per costruire questa solo un genio della scienza poteva compiere una simile impresa quindi il nostro capo che ci è riuscito è un genio della scienza va bene proprietà transitiva spiegata puttata a spiegazione e tu stavi orriando vero oddio santo questo è stavo solo pensando a voce alta sei proprio insistente comincio a essere stufo di scappare ma non perderò certo il mio tempo con te ok quindi l'energia che stavano rubando si la stavano usando per questa roba per questa creazione scientifica esatto per ottenere il mondo ideale e studiavano l'evoluzione dell'energia sprigionata dai pokemon durante sì 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 aspetta un po' come si arriva c'è un'uscita alle spalle ah no si scivola dalla roccia la niente bravo eccolo perché sto correndo così quel nuovo universo di cui parlava il capo mi viene la pelle da solo pensarci è per questo che usiamo ehi stavi orchiando stavo parlando ancora tra me e me sei anche insistente vedo oddio te ne ho corso troppo ma non non lotterò contro di te beh almeno hanno imparato qualcosa che è inutile farlo allora ah poverino non ce la fa più devono mettere la pancia all'aria sei ancora qui si vede il lago non mi lasci altra scelta la mia squadra ti stenderà o si stenderà no ti stenderà stai attento però la sua squadra è di un pokemon vabbè vabbè spero che se dire lo c'è non stare attento fa schifo violugo vai dai scontro serio tossì ma si è fatto pochissimo ok Va bene Tossina Se non fossi scappato avrei potuto lottare più duramente Che ha fatto? Che ha lasciato? Ma Oh Oh Rieccoti Ciao ci si rivede Come va con gli Pokédex? Sono qui per fare delle ricerche sulle storie che raccontano sul lago Ma Sembra che sia chiuso al pubblico in questo momento Conosci le leggende che circolano Sembra che in mezzo al lago Ci sia un'isola E che su di essa Un Pokémon miraggio Ah Nessuno Può entrare nel luogo in cui vive quel Pokémon Nessuno può entrare Può entrare nel Luogo Quindi il Pokémon è un miraggio O Scusa se cambio discorso Ma hai visto il branco di Psyduck sul percorso 210? Sì Esatto Vicino al caffè Quel gruppo Aveva la testa tra le mani Così si può dire Dovresti usare questo rimedio su di essi Ok Stai lavorando al Pokédex Quindi varrebbe la pena andarci Non trovi? Rimedio segreto Oh Finalmente Quante avventure ho avuto Giovane con il mio Pokédex Spero che tu riesca a incontrare Giovane intende 10 anni ovviamente Quando lei ve la diceva Certo Pokémon Mirage Nel lago c'è un Pokémon Mirage Cioè il Pokémon Mirage potrebbe quasi Adesso in D&D si chiamerebbe Intermittenza Come magari vibra Vibra in dimensioni diverse Cosa che dice? Non lo so Non lo so È bello sapere che esistono ancora persone Cos'è un mirevole Ok va bene E quindi ora Si vola Apri pure la mappa Allora Ah ma ti mettono anche la Quindi forse è questa la strana leggenda Eh allora La leggenda del lago Si Assolutamente si Però c'è ancora quella del monte Nel senso che il monte ha qualcosa Ha creato No sicuramente Ok Sicuramente Però si Però ecco Anche il lago quindi sembra avere quel lago lì Poi non sappiamo se è anche l'altro Ma quel lago lì Sembrerebbe avere Questa leggenda del pokemon miraggio Pokemon miraggio Che immagino sia la descrizione Sotto Cioè la nomenclatura scientifica No pokemon miraggio Vediamo un po' Allora Via No Ok Ah per fortuna non ti fa entrare Eccoli Questo percorso se ti ricordi l'abbiamo già fatto No aspetta no Non voglio usare il rimedio segreto Perché bisogna fare le cose fatte per bene Quindi ho ottenuto un oggetto che perderò E quindi adesso lo leggo Ok Rimedio fantastico distribuito dalla farmacia A Fiorlisopoli Vedete Abbiamo appena tolto qualunque valore Alla lady di prima Perché non ha creato un tubo L'ha comprato E c'è scritto sopra Rimedio segreto per far la figa Ed è in un sacco dorato Cura i problemi Di stato di qualunque pokemon E quindi bisogna scegliere a quale darlo Allora Sì Ora non soffrono più di mal di testa cronico Evolvono tutti in golda che ci attaccano Oddio belli Confusi Bellissimo che si confondano No bellissimo Ok Attenzione Oh bene Hai usato il rimedio segreto che ti ho dato È risaputo Che gli Psyduck soffrono di mal di testa cronico Ma nessuno è riuscito a capire da cosa si è causato Ah già Posso chiederti un favore Vorrei che tu portassi questo amuleto antico A mia nonna Che vive a Memoride Sulla strada per es Per Memoride ci sono dei pokemon rari Quindi penso che in ogni caso valga la pena andarci Ma che gentile Cioè ti da Ti chiede aiuto Però ti invita anche attraverso Una cosa che potrebbe tornare utile a te stesso Esatto Ok No Hai ottenuto l'amuleto antico Mia nonna ha un aspetto molto autoritario Credo che la riconoscerai immediatamente E comunque è l'anziana di Memoride Non ti sarà difficile capire chi è Oh andiamo a Memoride allora Controlla la tua capacità Non puoi sbagliare Ok Andiamo a Memoride Yes Allora Un'occhiettina alla mappa dunque Esatto Sto guardando Però non dovrebbe essere una delle città centrali Perché quelle sono opoli Ah ma guardai la bandierina Ah è vero Scemo Ok Ah bisogna andare a nord Attenzione Area nuova Beh hai Detto tra l'altro Che Gli oggetti vanno guardati Quindi dai un'occhiata pure anche all'amuleto antico Assolutamente sì Abbiamo catture qui Che cosa c'è È un pokemon con i vibuoni Ed è un gengi Ma ho avuto l'inquadratura speciale Quindi quando hanno i vibuoni Sì Sì Attenzione Attenzione Ho avuto sta cosa incredibile Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Sono emozionato Ah no Mi dicono che non è nuovo No No Scusate No No Scusami No No Te l'ho trovato la bestie Che bumerotti No Che male al cuore E al pisellino Censi vai pure a lanciare le due uova possenti ai pokemon selvatici E due uova ivi buone Esatto Allora E a questo punto io repello Eh sì fai bene Repellerò anch'io Anche perché adesso Cioè Ci sono rimasto malissimo Allora Ho visto l'animazione figa Finalmente avrò anch'io un banane E invece Non ce la farò mai Che tristizia Allora Oggetti nascosti Oggetto nascosto Oggetto nascosto È bellissimo perché il tuo schermo è diventato tutto pixeloso Hai tirato una laggata Ah Il tuo mondo è distorto ecco Ma questo Faccio parte del trio ninja Mi hai scoperto E quindi dobbiamo lottare Attenzione Si nascondono Repello anch'io Like and subscribe sempre ragazzi Si devi trovare questi Coglionazzi Questi tre coglionazzi Nell'erba Si puoi ricordati di guardare un'occhiata all'amuleto Assolutamente Assolutamente Sconfiggo questi tre E guardiamo Vai La burla L'ilarità Lo scherzo Il gioco Lo scherzo Il gioco Il faceto La risata goliardica Il meme La burla La satira oraziana La commedia dei pupi Il cinepanettone Il ruzzo Il ruzzo L'amuleto No l'amuleto non c'entra niente Bene Bene La cappella in testa No quella non c'è Stai mettere Che tipi di scherzi vi facevano Scusate Sì esatto Ragazzi Non sono vostri amici No Esatto Si fingono tali La baldanza giullaresca Bello questo ragazzi La smargiassa Battuta Allora L'ischerzo Iperpozione Non la darò mai a nessuno Solo schifose cose marce Bravo bravo Così ti voglio Il calcio nelle palle Anche Ah ma si vedono Sì sì esatto Hanno una piccola Non ci avevo fatto caso Combrina Grigia Edgardo Vabbè se I vostri genitori Li fanno uscire vestiti così Comunque a dieci anni Vuol dire che comunque Cioè sono Sì Queste carne valate L'arlecchinata Non pensavo che avrei avuto Orsti fino a sto livello Comunque Bello forte vai Vuol dire che esce non reggono mai lo spostamento di un pokemon dal combat non ho capito i buff si perdono se cambi no esatto esatto sempre cavolo che io quel quel buff quanti ho fatto danza spada l'ho perso ok 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 il rischio eccolo bravo ho fatto il rischio ragazzi ah eccolo il suo tank tranne quando si usa la mossa staffetta ok esatto che è fatta apposta proprio per evitare questo anzi però il punto che non è che perde il buff il pokemon che va via li prende quello che arriva per questo staffetta ah ok capito puoi fare un setup con un pokemon ma il beneficio di quel setup quello che entra espeon si usava così talvolta si usa ancora così in singolo hmmm di 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 ole ninjas che comodo ok adesso posso leggere l'amuleto vai antico portafortuna fatto di ossa di pokemon da portare all'anziano di memoride ossa di pokemon chissà che non lo ritroveremo in leggende magari anche sgamando di quale pokemon sia allora ultra ball eh si è finito questo non è altro no è finita dai oh no non è finita attenzione scaccia bruma si con il pokecron applicazione numero 20 eccola lì ce l'hai già conversione rispetto all'esperienza del 2006 completamente inutile perché prima per avere scaccia bruma dovevi avere un pokemon con scaccia bruma ma ora visto che non serve avercelo a che cazzo serve metterti sta roba è solo per farti premere r a non c'è alcun valore ludico in questa cosa però va bene esatto sono contro l'ennesimo ninja oh eccolo è uscito dal terra come ha fatto è un ninja caro ragazzo è un ninja giusto scusa professore Federico grande fede mi dispiace ma io sono il tuo re crobat tipico nome da ninja si ragazzi è vero certo di un'antica casata peraltro è arrivato Sekiro bene oh picco bravo fai il 25 che devi diventare un fico feco sta diventando un feco oddio godo oddio godo è finita è finita abbiamo finito il gioco ragazzi devi dirmi che abilità ottiene piovischio è quello che assorbe l'acqua e potenzia le cose fa piovere oh il meteo il meteo è qualcosa che non ho mai sfruttato in pokemon è l'effetto passivo più forte secondo me il meteo peliper pokemon all'acquatico funge da corriere trasportando piccoli pokemon nell'enorme becco quando è stanco si riposa galleggiando nel mare godopoli fichissimo monopico e ora qua di sale comunque è meglio mi sa di idropulsar che è 60 si si dai questi 5 base power no ora è godopoli ragazzi cavolo ora è godopoli appena si prende surf è finito il gioco anche il trespolino via il super suono bene attenzione ai fanta allenatori che sono sempre piuttosto aggressivi ah si non solo vai la componita eh ma ormai ho un crobat se mi muore crobat io non quel crobat è fortissimo non farlo morire per favore io non giocherò mai più a pokemon se mi muore crobat mai più no ragazzi troppo forti oh no ho perso però non ho più non ho poche dollari da pagarti come posso fare gen guarda qui metterò in pratica tutto quello che mi hai insegnato gen ah sono sorelle fratelli cazzo faccio attenzione è pericolosissimo nooo ma cos'è questo setup anti me assoluto sei nella merda allora ok eh no in teoria in teoria joel è debole a tutto ma talmente forte che secondo me è troppo forte il veleno cruce lo faccio però devo togliere di mezzo i frida perché invece quello soffre glielo 39 lui è solo volante veleno veleno non è debole elettro non prende il 4x è impossibile che scoppi dai non scoppi tranquilli ragazzi non può scoppiare smettirà di urlare che ansia vi mettete fermi aspettate adesso chiamo Ornsti ehi Ornsti vieni qui cosa che ha fatto maledizio mamma mia vedi di crepare grazie bene intanto una bella prepotenzina ok ok ah è statico dai ok 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 è ben gestita evviva evviva allora a questo punto metto dove sei violugo perché è debole a tutti cioè il brodo ha doppio i soldini questi ti faranno un sacco di soldi vabbè li sfondiamo dai è che siamo troppo livellati quasi questi sono dei muri in un Nazlock vecchio stile eh ovvio hanno una squadra sinergica cattivissima evoluta tra l'altro evoluta allenatori ricordavo questa coppia mamma mia che paura ma dovrebbe essere sempre così il gioco 26.000 pochi dollari si ne danno tanti loro ci picchia che belli altro fantallenatore vediamo figo figo intrigante tre pokemon ah bellissima che è questo motim si madò che male che fa meno uno ottima spennatina qui e manca si tirano soldi a palate dovrei prendere di nuovo la vecchia milka il vecchio amico violugo onyx pokemon roccia sono sempre interessanti però io ho acciaio purtroppo ed evita l'attacco oddio frana ok 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 dai non puoi dai non puoi mancare l'attacco di nuovo manca secrita non succede niente adesso no infatti 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 onyx è un attacco del merda non è morto che paura che mi dà madonna mia infatti ti sto guardando attentamente ma ti sei anche ok 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 ti sei anche boostato la difesa quindi bella proprio a posto ho fatto un po' il caco te lo dico eh però perché di solito mi muoiono le cose tardi no alla fine serata non facciamo morire gioia il secondo per favore no gioia il secondo no perché non ho niente cioè ci metto tipo come si chiama il bebé di chance con la natura sbagliata con la natura sbagliata oh basta vabbè mettevo le pari di mezzo gioco il secondo basta eh la paura esatto sfruttiamo il tipo terra su bravo bravissimo non fare come fa il maestro che fa geloraggio a cazzo perché è troppo figo sì 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 è andata è andata il timore la fifa l'esitazione esatto ragazzi assolutamente vediamo quanti soldi aveva ok ok è sparita l'ilarità il ludibrio e lo scherzo potete dirlo forse il raggabriccio oh questo è per la bici ah fico che paura e quello ha tutti i pokemon con abisso oh no sto scherzando sto scherzando manfredi questo si chiama manfredi eh perché è un nome da ninja anche questo manfredi cioè è un nome che meriterebbe il titolo dell'episodio lo chiamiamo manfredi di questo episodio va bene il manfro let's go mamma mia Joe era completamente sulplassato il lo starter no no perdi non chiamare l'episodio manfredi ti prego livello 40 raggiunto lo sapevi che in un posto molto molto lontano c'è un capopalestra ninja no koga non mi ricordavo di lui di canto qualcosa c'è Roma è tanto lontano pallavola bellissima palestra di fuxiapoli ok palombre forte solo che non ha pokémon non penso che nessuno di loro te la impari forse tre tre su sei joel ifrid e violugo sì ecco sì 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 però però mi ricordo se scanchi attacco speciale perché in effetti la copertura ghost è molto figo averla stanchi dovrebbe essere fisico in realtà eh infatti cioè mixed ma principalmente fisico Arrigo beh dai vabbè ma questo percorso it's a gift that keeps on giving veramente cioè ah ma sì Manfredi Arrigo io devo fare l'attenzione perché se sto cosa vendetta è un casino oh no no vendetta no eh eh capito non voglio perdere così quello che hai ottenuto esatto pur vero è che è lotta in teoria la resisto no però vabbè tanto lo prendo lo stesso l'esperienza cazzo mene gioca scheda Hayao Miyazaki official mi scrive in chat ciao frati voglio bene non sapevo che Miyazaki parlasse in italiano eh ma perché durante una delle sue pause di smetto di lavorare ha studiato ah ah ok ok prima del suo prossimo ultimo progetto eh perché quante volte l'ha detto tipo tre come Sakurai sì sì Sakurai poverino è l'ultimo smash sempre l'ultimo smash sì lui davvero palla fumo palla fumo mazza quanti ha venato cosa c'è questo tizio maria rosa ok vabbè maria rosa dai nome è abbastanza dai dai rispetto a Darian ragazzi peli per appena impara surf facciamo la mono a run mamma mia surf 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 eh conta che la pressiometro boosta del 50% il base power delle mosse acqua il 50% sì io sparo una 135 base power stab quindi c'è tipo sparo una mossa dynamax con peli per ogni volta che faccio surf oh mio dio ma è fortissima questa cosa sì è forte è forte ma infatti sto sciottando tutto il percorso con una 65 base power anzi golbat è il primo che ha resistito adesso e mi ha anche avvelenato perché è un pezzo di merda dipi 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 stiamo facendo comunque mai come in questo episodio abbiamo sconfitto allenatori è vero è vero tanti tanti lo sgomo sì ragazzi è normale che peli per abbia delle stati di merda dategli anche delle stati forti sarebbe sto dio dai grande picco al 28 stockpile no 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 mi dispiace no allora 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 dobbiamo dare il dolce gatto no però diamogli un un antidoto meglio meglio ecco qua la palla fumo ok esatto pelipper con le stats forti si chiama chiogre esatto bravi e non posso raccogliere nulla perché è tutto backtracking con cascata e surf mi sa questo bravo bravo ok ah ma sei arrivato tu oh questo è la tua storia è la mia storia e adesso ci fermiamo tu intanto curati ci fermeremo con una cosa ok e purtroppo però ti avverto divieto di speculo ok ok ti fermeremo con una cosa però darlo è diverso che riceverlo ok 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 tu vedrai una cosa ma non potrai dire nulla va bene va bene ok ci sto ci sto ma che cazzo no non posso perdere pelipper che succede ok 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 posso switchare posso switchare ok 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 pensavo arrivasse a fine turno niente niente questo pazzo mi ha fatto una roba pazza ok ho avuto paurissimo ragazzi e lo attacco quanto c'ha 120 base power mamma mi sono cacato ragazzi 140 140 ecco vabbè oddio forse non mi avrebbe fatto un cazzo neanche su pelipper però merda ho fatto il caco ragazzi ho fatto il caco vero l'ilarità l'aero attacco si hai fatto già la curetta di tutti i pokemon yes ma che bravo e guarda io sono che bella host adesso si molto bella ci ho messo un po' di più perché sto cercando di allenare pelipper e c'è e quindi non non posso shottare tutti fai bene fai bene dovrei allenare un po' ifrid ma ifrid non violugo vabbè sono pari sai ah si 32 e 33 si kaizo nice io luogo mi serve perché è il money giver per ora se non posso rischiare di perdere il pelippo ah 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 non spoiler non spoiler non allontanarti di lì non mi muovo ti prometto che faccio subito parlo parlo alla gente dentro il pokemon center bravo bravo portati avanti cosa ti porti in un posto così fuori di mano non c'è niente da vedere certo qualche antica pittura signora signora oh davvero interessante vediamo un po' questo pokemon si sta davvero affezionando a te si rafforzerà l'amicizia no non farlo pare che questa città esista fin dalla creazione della regione di sinno la bimba il pokemon center più più lore dell'universo esatto beh il fatto che esista dalla creazione di sinno mi fa pensare e questo te lo dico proprio esplicitamente che la troveremo al 100% in leggende pokemon arceus perché è vero che in leggende pokemon arceus insomma viviamo in un tempo diverso ma se c'è della creazione vuol dire che memoride era lì assolutamente ah ok ok no no ero a confermare assolutamente per forza ci sono poi pitture rupestri quindi sarebbe interessante vederle ragazzi per me è stato un panico questo questo percorso è tutto apposto è tutto apposto bene sono arrivato let's go eccomi qua allora intanto allora apro la mappa del vendettame vai vai una piccola città una città piccola piccola in cui rivive la storia della regione di sinno e che conserva ancora il sapore dei tempi andati al centro si trova un piccolo tempio che risale a tempi antichi wow sul piccolo tempio purtroppo tu sei stato in giappone vero si palesemente è un tempio shintoista però non c'è molto che posso dirti ok andiamo da questa anziana signora che ne dici ok c'è uno strano astronauta in fronte alle rovine lei non c'è niente ma questo l'ha fatto andare su tutte le furie dice che farà saltare in aria l'intera città con una bomba ma allora che nervoso come che è nervoso se fossi un po' più giovane potrei dargli una bella lezione con l'aiuto dei pokemon o con la polizia forse signora ma comunque si hanno una bomba oh mio dio era veramente una bomba dialoche e palchia vabbè niente si no 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 puoi leggerle queste ok ok no 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 allora aspetta non è la bomba ah ah è un'altra cosa quella che devi vedere che raffigura un pokemon antichissimo copre la parete ci sono anche delle scritte incise lo spazio è una dimensione in continua espansione espansione anche i nostri animi sono come lo spazio ok il tempo non si ferma mai passato futuro e presente ok guarda se posso permettermi di stimolare in te una piccola riflessione queste pitture sono decisamente più antiche della statua che abbiamo trovato a Evopoli sei d'accordo? certamente si è particolare la differenza no? tra le due beh qui sono chiaramente separati nella statua no esatto però quindi c'è stata una storia che ha portato dalla separazione di queste due figure all'unione evidentemente si si ai veterani invece dico una cosa che sarà incomprensibile per i non veterani ok 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 quindi tranquillo la sentirai anche tu perché va bene va bene sono pronto è interessante che Palchia sia rosso molto interessante ok ok adesso parla pure con la recluta questa città insignificante non c'è niente non ha senso di esistere la farò esplodere con una bomba galattica se hai qualcosa da ridire ti farò chiudere il becco con una lotta a pokemon ok team galassia mi dispiace cioè hai l'intero universo contro questo vabbè poverini hai una bomba va bene beautifly va bene vuoi distruggere un paesino di anziani e giovani e usi beautifly sì vabbè è un coglione questo come tutti le vedi in galassia mamma mia peliper mi fai venire il pisellino duro un beautifly ha seccato taku però grazie ragazzi davvero avevo bisogno di questo sì di sentirtelo dire di farmi ricordare quel momento di grande dolore e shock ragazzi ma come si fa a prendere un poleon come starter che impara mulinello al 39 mamma mia molto bene Ottimo lavoro ecco lo medici è troppo per me non riesco a concludere niente qui non farti saltare in questo posto non vale proprio niente me ne vado mi piace la inarrendevolezza del team galassia meno male che c'eri tu certo che sei un allenatore eccezionale in veste di anziana di memoride ti porgo i miei ringraziamenti o quella moleto antico potrei dargli un'occhiata come dici mia nipote camilla ti ha chiesto di consegnarmelo questo morito antico è stato creato a memoride tanto tempo fa fu realizzato in onore della divinità che si dice abbia creato fu realizzato in onore della divinità il sommo quindi che si dice abbia creato la regione di sì se ne trovano ancora di tanto in tanto tanto ti trovi qui perché non vai a visitare l'interno delle rovine hai fatto tanto per arrivare qui ok però non c'era niente diceva adesso andiamo verso la fine di queste rovine ascoltiamo una bella storia abbiamo questa bella immagine ci potrà interagire ma sarà l'introduzione di settimana prossima poi il tuo commento quello che scoprirai ma non ti sembra il logo ottimo allora riesce a mettere il mio schermo anzi no non ce l'ho a perdere c'è un altro schermo no 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 niente niente ma ok comunque sì ok è il logo ti fa venire in mente qualcos'altro va beh al di là del rasoio di hocam le tre creature però mai mai esamini la pittura rupestre all'interno della grotta antica immagini misteriose ricoprono una parte della parete ci sono tre figure disposti in modo da formare un triangolo nel mezzo c'è qualcosa che brilla cosa significa questo dipinto il significato dovrebbe essere questo un tempo c'era un essere un essere dotato di un immenso potere considerato una divinità questo essere così potente racconta la stato da tre contrastato da tre pokemon questo essere non questo pokemon i tre pokemon formavano un triangolo per mantenere l'equilibrio con l'essere è una leggenda antica di sinno che viene ancora raccontata a memoria e ma è qui ti voglio fissi e ma questa cosa spetta fissi che a che si si onde onde te fregatene allora come ti ho detto non speculo noi abbiamo fatto quattro ore e dieci di live e la testolina deve riposare è giusto è giusto ma posso chiederti un'ultima cosa si apri la mappa allora appia servala bene allora presumendo per sempre istinto di okami okamiano che la sfera rossa o qualunque entità fosse quella sfera rossa si trovasse o sia rappresentata dal monte che poi era la fonte di luce il tetto scomparso c'è la punta scomparsa concordo la chiesa e così via il triangolo il triangolo pokemon miraggio ebbè per forza questo cos'è lago arguzia interessante associato a una strana leggenda ah vedi il triangolo c'è il triangolo c'è quello dei laghi e ci sono però è sempre la stessa leggenda e circondano questo rubino questo opale esattamente cazzo vabbè vabbè basta mi fermo ok vabbè esattamente qui ti fermi per scoprire la prossima volta in apertura ci rivediamo qua l'intro la facciamo davanti a questo disegno e mi dirai quali sono le tue considerazioni ci sono questi tre esseri come si collegano a questa entità di cui ha parlato la nonna di Camilla e faremo un po' di discorsi non arriverai secondo me alla verità perché è difficile diretti manca ancora tanto direi la verità è lontana manca ancora tanto materiale però voglio si esatto ragazzi intro da un'ora sicuramente però ok sarà sarà bello sarà bello perché al centro c'è il monte corona proprio vero e ai lati del monte appunto si ai lati destra e sinistra in alto del monte corona abbiamo tre laghi tutti uniti da una stessa leggenda con dei pokemon che sono considerati miraggio miraggio tra l'altro sì è particolare il termine miraggio e ho dato a lui un significato solamente nell'ultima serie che ho fatto in diamante sì perché adesso devo star zitto però miraggio può essere interpretabile anche come fuori da spazio e o tempo nel senso che loro erano coloro i quali hanno cercato di mischiare le cose vabbè ok ne riparleremo no no infatti mi dice Ferdi non partire a speculare tu è vero è vero avete ragione quindi ma che bella live che bella live eh sì 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 tanta roba e la finiamo con del roleplay oh dimmi quindi il professore arriva accanto a te si congratula ancora per la tua vittoria di stasera e ti confessa una cosa si mette proprio a sedere per terra mentre tu sei in piedi davanti al murales al alle pitture rupestri e si confida con te dicendoti che a pochi passi da noi si trova un edificio nel quale il professore forse potremmo dirlo si è laureato oh 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 la più grande fonte di lore non solo del mondo pokemon ma del franchise intero in 25 anni si trova a pochi passi da noi la prossima puntata sarà speciale e probabilmente la puntata secondo me più bella dell'intera serie wow e dopo questa che è stata fantastica ok io ti dico che sarà sarà un gran momento sarà un gran momento non vedo l'ora cazzarola e ormai non so più cosa aspettarmi perché sono sconvolto bellissima live grazie di cuore stupenda let's go magnifica vedremo se poi entreremo in questo pazzo edificio oppure la sfioreremo soltanto questa struttura ok 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 lo scopriremo si 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 vedremo vedremo lo scopriremo ragazzi sono le 1.40 direi che si è fatta una certa perfetto top tier grazie mille di questa splendida live grazie a te grazie a voi ragazzi di essere stati con noi fino a quest'ora è stata stupefacente grazie professore ci rivediamo presto ti auguro una buona notte vogliamo raidare qualcuno dica controllo guardo chi c'è non lo so chi c'è vediamo vediamo in realtà non c'è nessuno c'è Dario vediamo vediamo se sgamo fammi fare lo sgamo piccolino allora lo raido nostro ah è appena partito in live non so se lo conosci è un bravo artista si chiama Boban Pesov certo l'abbiamo già redato una volta e lo rivedo volentieri perché ci ho parlato anche al Games Week perfetto let's go è tutto attaccato Boban Pesov Boban Pesov tutto attaccato ok perfetto grazie mille buona serata buono riposo a te ciao ciao caro ragazzi questa live è stata fenomenale è stata dall'inizio alla fine fenomenale fighissima e grazie a tutti voi il vostro supporto è stato stellare mi ha emozionato siete stati meravigliosi vi ho letto ogni volta che potevo buon riposo noi ci vediamo domani con un evento molto importante lo sapete vero c'è domani giovedì fellows abbiamo due live di cui quella notturna sono i data battles di Kingdom Hearts 3 ma il pomeriggio torna Resident Evil Resident Evil 0 0 torna ed è importante lo so le cose si fanno bene tutto si chiude al top grazie di essere stati con me buon riposo vi adoro e alla prossima e alla prossima e alla prossima Grazie.